A me piace proprio l'idea di portare il saluto della città, come ex assessore forse posso anche recuperare in qualche modo una delega 30 anni prima. È interessante svolgere questo convegno in questa sala, che è una sala importante per la città di Torino, una sala nella quale si sono avvenuti eventi storici nel corso degli anni e anche questo dovrebbe essere un evento storico abbastanza importante per ripercorrere quello che è avvenuto 30 anni fa. Quindi prendete questo come il saluto della città e il benvenuto della città di Torino a un convegno nel quale si diranno cose che non sono mai state dette e che non verranno mai pubblicate probabilmente, perché Torino è una città nella quale ancora oggi, dopo 30 anni ci sono cose che non si possono né dire né scrivere, però è importante che qualcuno le dica e le scriva e le faccia conoscere. Io vi presento il moderatore Andrea Teranova che adesso prenderà poi la guida del convegno, mi togli la parola, me la dai. E che tu te la prendi la parola, questo è il fatto. Buon dia a tutti, grazie di essere venuti qua, grazie al Presidente Vicario del Consiglio alla volta che permette di utilizzare questa magnifica sala. Io vorrei però fare due parole prima di dare la... Prego. In qualche modo, grazie. Perché mi sembra importante ricordare, evidenziare il fatto che questo convegno, come dire, sottolineerà, evidenzierà, si disporrà lungo due assi, due piani potremmo dire. Da una parte quello che vogliamo fare è una sorta di attivazione di laboratorio della memoria, potremmo dire così. E si spiega anche in questo modo il titolo di cui io sono responsabile, unire i puntini. Unire i puntini è tratto da una frase di Steve Jobs che lui pronunziò davanti agli studenti di Stanford a metà degli anni 2000, il famoso discorso in cui chiedeva agli studenti di stay foolish, stay hungry, no? Siate matti e siate arrabbiati, ecco. In cui lui affermava questo, diceva non è possibile collegare i punti guardando soltanto in avanti, puoi collegarli guardando all'indietro. Quindi devi fidarti del fatto che i punti si connetteranno in qualche modo al tuo futuro. Questa modalità di pensare non mi ha mai deluso e ha fatto tutta la differenza nella mia vita. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in un periodo storico così complicato, così travagliato come il nostro, è importante guardare e guardare al passato. Quando discutevamo sull'organizzazione del convegno a me veniva in mente questa straordinaria opera di Paul Klee che si chiama L'Angelus Novus, menzionato più volte da Benjamin nei suoi scritti, in cui l'angelo della storia è quello che va verso il futuro dando però le spalle al futuro e guardando il passato. La nostra dinamica vorrebbe essere un po' questa, quindi proiettati al futuro ma guardando costantemente quello che è avvenuto in un passato anche nemmeno troppo lontano e che tendiamo purtroppo a dimenticare. Questo è un asse. Il secondo asse è quello che Lorenzo Matteoli chiama la filosofia urbana del fare bene e con competenza. E' responsabile, ecco. Di nuovo sono due termini che in una situazione in cui, come dire, la parola non vale più nulla perché è stata sterminata, è stata sterminata dai social, dall'uso compulsivo che se ne fa, l'idea di ritornare ad una responsabilità del fare, no? Della professionalità che in qualche modo si costruisce quotidianamente, piano piano, è un valore secondo me di fondamentale importanza. Io a questo punto volevo dire altre cose ma magari le dirò più tardi, farò delle domande anche. Io poi sarò rigoroso nel chiedere il rispetto dei tempi, questo sì, rigorosissimo. Quindi do la parola a Luciano Borghesson, presidente del Circo della Stata. Grazie, sempre in piedi. Va bene. Allora, io intanto grazie per Lorenzo Matteoli dell'invito, anche se è un invito che visto le premesse ma anche quanto ha scritto già attraverso il suo blog e nelle ricostruzioni, il rapporto con i giornalisti di Matteoli è molto, ma molto problematico, direi che. Quindi io rappresento il Circo della Stampa ma diciamo che non rappresento la categoria dei giornalisti. Ognuno quindi dei giornalisti come in ogni categoria risponde di se stesso. Io ho cercato di fare cronista come mi avevano insegnato i miei predecessori, cioè cercando di raccontare i fatti, ma i miei fatti non sono piaciuti del tutto anche a Matteoli, tant'è che mi ha definito un giornalista debole e in effetti mi ritrovo in questa definizione se vado a rileggere su internet e Wikipedia la ricostruzione della storia dello stadio, dove ci sono diversi articoli di colleghi e sono citati anche con nomi e cognomi, io invece i miei articoli non vengono citati come cognomi, come se fossero ufficiali della testata e quindi effettivamente l'attenzione rispetto a quello che è stato il mio lavoro è stato inferiore e quindi debole rispetto invece a colleghi forti. Ma forse mi chiama proprio per questo, perché da debole una ricostruzione forse meno critica da parte tua viene riconosciuta. Allora prendo spunto da quello che ha detto il signor Terranova, no dottor Terranova e bisogna secondo me fare un passo davvero indietro, bisogna partire nel contesto di quel 1980 che cosa capita a Torino? Ce lo ricordiamo tutti però facciamo un attimo di memoria in questo momento nell'80 c'è una crisi Fiat fortissima, 15 mila licenziamenti prospettati, 23 mila poi casse integrati c'è la marcia dei 40 mila e quindi si torna a produrre per quello che è però il limite di quel momento. Poi nell'83 c'è l'inchiesta sulle tangenti e chiaramente è una situazione politica molto difficile. Si arriva all'85 con un cambio di maggioranza, il Partito Comunista che aveva avuto il 40% di voto viene messo in minoranza dal Consiglio Comunale e si fa la giunta pentapartito con un programma di respiro lungo, cioè di interventi. In qualche modo rispecchia con le dovute proporzioni quello che stiamo vivendo adesso, cioè la politica del fare o la politica del conservare cercando di migliorare l'esistente. Allora lo stadio si colloca in questa fase, nel 1984 è fondamentale la candidatura di Torino come sede per i mondiali di calcio e quindi ci sono le due contrapposizioni che fare, in quale stadio il gruppo della sinistra che con Novelli aveva già avviato un progetto di ristrutturazione, uno studio di ristrutturazione del vecchio comunale viene in qualche modo recuperata anche dalla nuova maggioranza, quella del pentapartito. In effetti poi ci sarà il sindaco Cardetti ma anche l'assessore e i tessori che propendono per la ristrutturazione. Poi c'è una proposta di privati, i privati per realizzare uno stadio in particolare arriva dalla società Juventus e si decide, dopo molte polemiche, che porta anche alle divisioni però non mai dichiarate in modo ufficiale come motivazione da parte dell'assessore, subentra e viene eletto assessore Matteoli con quella delega perché eri già assessore mi sembra, no no, diventi assessore allora in quel momento lì con la delega allo sport e a lui c'è l'incombenza di realizzare il nuovo stadio. però nasce in questa situazione, cioè con grandi contrasti all'interno delle forze politiche e all'interno ovviamente del Consiglio Comunale eccetera. Questa è una città laboratorio anche in questo, cioè ci sono, almeno visto per quello che mi è potuto vedere e l'ho visto tutto, fra l'altro non soltanto Matteoli mi ha chiamato ma anche il geometra Rolando quando purtroppo ho mancato recentemente aveva scritto un libro, lo stadio delle Alpi, uno spreco di Stato e anche il geometra Rolando nella sua ricostruzione aveva denunciato queste difficoltà. Allora i meriti di quelli che hanno lavorato per lo stadio delle Alpi è di riuscire a realizzare un'opera in 22 mesi e con una spesa pubblica molto contenuta perché siamo sui 40 miliardi che equivalgono a circa 20 milioni di euro di oggi e hanno un altro merito che quello stadio era un'opera che portava non soltanto il gioco del calcio ma portava anche attenzione su altri avvenimenti che si potevano svolgere uno stadio giusto che non debba vivere soltanto nella momenta della partita e possa avere qualche eccetera. E questo è merito quindi dei progetti che sono stati avanzati non solo, lo stadio in qualche modo è stato ancora utilizzato nelle strutture fondamentali per realizzare il nuovo stadio. Ci sono state delle forzature però e queste forzature sono quelle che purtroppo hanno determinato poi le difficoltà. Ok, allora adesso ne parlate. Per me però le forzature sono state una è quella del confronto rispetto a una ristrutturazione del comunale in una fase politica difficile per Torino perché c'era la crisi industriale e secondo quello di non riuscire a essere alleati in toto delle due società di calcio della Juventus e del Torino. E poi c'era la terza situazione che era in evolvere cioè soltanto nell'89, nel 1989 si fa la legge Mammy che conferma l'esistenza della televisione privata nazionale e quindi questo modifica molto il tipo di risultato economico che può dare il calcio come si è visto poi perché la televisione è diventata forse anche più importante degli spettatori della partita in diretta. Chiedo scusa se sono andato oltre rispetto agli argomenti. Grazie a terra no. Aveva ancora tre minuti. Io adesso darei la parola a professor Lorenzo Matteoli. Sì, sedetevi. Partivo anch'io dal 1983 e adesso vediamo in che maniera perché lo stadio delle Alpi è nato in maniera controversa. In un primo tempo c'era il progetto di Bizzarri che voleva ristrutturare il vecchio comunale ed era in un certo senso una memoria degli anni precedenti dei 13 anni di gestione del PC dove tutto quanto veniva classificato come opera faraonica e la ristrutturazione del vecchio comunale era da un punto di vista urbanistico un errore perché si sarebbe condannata di nuovo la piazza d'armi alla calcisteria settimanale con un'aggressione di 10.000 macchine e un ira di dio di incidenti. Il comunale vecchio era stato costruito nel 1933 in una zona che allora era estrema periferia della città ed era giusto quindi ripensare tutta la collocazione. Però nella modestia che ancora allineava sulla città di Torino sembrava che ristrutturare il vecchio comunale fosse la scelta giusta e non si vedeva invece il quadro più ampio. Io vorrei dire una cosa che questo convegno che si intitola alla memoria del vicenda delle Alpi va invece letto come un convegno sul futuro di Torino. Noi prendiamo la scusa della vicenda che racconteremo molto brevemente per vedere quali elementi in questa vicenda servono e sono utili per interpretare quello che succede oggi a Torino e quello che potrebbe succedere nel futuro qualora si riuscisse a promuovere una cultura della progettualità sulla città e della visione futura di Torino. Quindi se mi fate andare... Eccola qua. Questo è lo stadio delle Alpi in una sua immagine bellissima. quando venne fuori l'idea di farlo di nuovo c'era il problema di dove metterlo e vennero proposte dodici collocazioni c'era a Grugliasco, c'era a Stupinigi c'era una serie di collocazioni che vennero esaminate e nessuna però era di grande successo perché avevano tutti dei difetti o di accessibilità o di orientamento o di contesto territoriale. E fu Bepi Dondona che allora era assessore all'urbanistica che un giorno venne in giunta e disse ho trovato il posto dove fare lo stadio lo facciamo alla Continassa. La Continassa è un brutto nome perché in realtà la cascina si chiamava Contina un nome molto più gentile, molto più elegante che evoca una bella fanciulla nobile e non so perché poi l'elemento diciamo così autoderogativo di Torino l'ha chiamata Continassa perché lì c'erano le vallette, c'era la galera c'era la Sardinia, c'era il mattatoio quindi era un luogo un po' perverso però il sito era perfetto per la collocazione dello stadio perché ci si arrivava dalla tangenziale da Milano immediatamente non era nebbioso nonostante ci fosse stata questa polemica la nebbia, la nebbia non c'era la Continassa non c'è mai stata una parità annullata per nebbia ce n'è stata una annullata per neve e fece scandalo ma quella volta nevicarono un metro e mezzo di neve in due ore e non era possibile assolutamente pulire lo stadio in tempo per la partita nemmeno con i caterpillar dell'esercito perché si sarebbe sfondato tutto ma venne fatto nello stadio non pulirlo sembrava che questa fosse una riduzione dell'efficienza di Torino comunque venne scelta la Cascina Contina che era un luogo perverso perché nella ideologia della sinistra si erano stati fatti gli orti urbani gli orti urbani venivano interpretati come quel luogo tipo Danimarca tipo Copenhagen tipo Amsterdam con bei quadratini puliti tutti vecchietti con il loro piccolo sgabuzzino nel quale mettere la zappa e il badile e i fiorellini tutto quanto in realtà gli orti urbani alla Continassa si erano trasformati in una giungla in una specie di di casba torinese dove si trovavano tutti i delinquenti il beretricio corrente veniva usato per nascondere la furtiva da saccheggi vari quando l'abbiamo liberato da questa occupazione che era diventata perversa veramente era un luogo pericoloso nel quale non potevi neanche entrare per conto tuo abbiamo dovuto mandare gli alpini con il mitra i quali hanno fatto una battuta attraverso la Continassa per liberarla dagli occupanti degli orti urbani cosiddetti e poi è stato fatto venne fatta dopo la decisione di fare lo stadio io mi occupai di produrre un documento per una iniziativa che era fortemente innovativa per Torino inventata in parte da Elda Tessore ma in parte da Andrea Galasso da Aldo Ravaioli e da altri che era quello di costruire lo stadio con una concessione noi non avevamo i soldi per fare uno stadio da 60.000 posti avevamo 30 miliardi della legge Capria e probabilmente non sapevamo ancora allora 14 miliardi dei contributi del CONI per i mondiali del 90 quindi 43-44 miliardi che non sono sufficienti per fare uno stadio da 60.000 posti per cui si dice noi proponiamo la concessione ti diamo lo stadio da gestire per 30 anni e ci mettiamo i 30 miliardi della legge Capria e tu ci metti quanto basta quando portai questa delibera in giunta il sindaco Cardetti disse non la firmo perché ho paura di mettere la città in una posizione imbarazzante perché nessuno verrà in realtà vennero otto proposte io che allora ero appena diventato assessore non conoscevo ancora le linee del protocollo e delle procedure dice beh se non la firma il sindaco la firmo io presi la delibera la firmai e sotto lo sguardo sballordito dei funzionari la delibera passò con la firma dell'assessore al quale un attimo prima il sindaco aveva praticamente chiesto le dimissioni perché quando il sindaco non ti firma la delibera vuol dire che sei sfiduciato ma io avevo fatto finta di non accorgere o non me ne ero accorto e Cardetti non ebbe la prontezza di dire oi Matteoli fai attento fatta questa delibera arrivarono le proposte della concessione si venne nominata una commissione esaminatrice per la prima volta nella città di Torino la commissione esaminatrice comprendeva tutti i partiti della giunta meno democrazia proletaria che non aveva voluto partecipare per questioni di principio e non vi racconto i dettagli di questa 20 riunioni analisi precisa di tutti i progetti una proposta mia di metodo docimologico che mi chiedono cosa vuol dire docimologico docimologico vuol dire metodologia di valutazione in base alla quale si facevano un certo numero di parametri i sette commissari della commissione avrebbero dato un voto da 1 a 10 per ogni parametro e da una media dei voti si faceva una classifica questa classifica diede come alcuni vennero eliminati per incompletezza o difetti di presentazione gravi per cui non si fece neanche la valutazione su di loro i tre che rimasero furono la Fiat Engineering la Stadium che era poi i Grecchi e la società dell'acqua antica Pia Marcia di Roma già il nome non piaceva la Torino che stava dell'acqua marcia era una roba che stava proprio di traverso e si trattava di votare su questi tre dopo 13 votazioni al 13 di dicembre il numero 13 è importante venne fatta una classifica dove la SAPAM società dell'acqua più antica a marcia era la prima secondo Rechi terza Fiat secondo Fiat terza non mi ricordo bene c'era un'anomalia possiamo vedere un po' di ecco qua qui rispetto un momento sì c'era un'anomalia nelle presentazioni che sia Fiat che Rechi avevano dei difetti nella presentazione per me gravissimi Rechi diceva che qualora il bilancio fosse stato passivo la città doveva ripianare il bilancio che per un concessionario è una roba strana perché sono tutti capaci di fare concessionari se le cose vanno male tu paghi e se le cose vanno bene io prendo i soldi per cui era secondo me da escludere proprio da un punto di vista concettuale di principio perché in contrasto con la filosofia della concessione e la Fiat invece che non presentava il programma economico finanziario perché diceva non conosceva i cespiti attivi i cespiti attivi dello stadio li conoscono i cani e anche i maialini perché bastava andare allo stadio contare i cartelli fare una telefonata a Bastino e si poteva fare rapidamente il conto di quanto valeva la pubblicità sul mercato che erano circa 4 miliardi all'anno la città la concedeva a Bastino Publimondo per 300 milioni senza concorso con una semplice delibera del Consiglio Comunale e l'Uma sempre fa i parei un classico piemontese quando io feci il concorso per avere le offerte della pubblicità ho venduto quella pubblicità che veniva data a 300 milioni per 2 miliardi e 700 milioni un'analisi più precisa di quello che valeva sul mercato ti consentiva di calcolare che i soli proventi della pubblicità sarebbero stati sufficienti a pagare un mutuo per 100 miliardi perché erano 5-6 miliardi di lire e quindi al 5% ti pagavi un mutuo di 100 miliardi che con i nostri 40 miliardi sarebbero stati più che sufficienti per fare lo stadio però Cardetti evidentemente non lo sapeva aveva paura che non ci fossero le offerte e invece le offerte ci furono ed erano valide a questo punto vorrei fare un anticipo delle conclusioni del mio discorso perché forse vale la pena farlo poi dopo andremo avanti nel dettaglio e nelle minuzie qualche aneddoto per capire quello che era il momento della città di Torino a quel tempo sono cose che la città non ha mai saputo che la stampa non ha mai pubblicato che nessuno ha mai detto a parte il sottoscritto ho scritto comunicato in ambienti ufficiali perché a Torino ci sono cose che non si possono né scrivere né dire e ancora dopo 30 anni quelle che diremo noi oggi sono cose che non si possono né scrivere né dire infatti quello che diremo in questo convegno difficilmente sarà pubblicato sui giornali di Torino lo saprete soltanto voi e vi prego di apprezzare questo privilegio perché siete a parte di un segreto relativamente importante pochi altri a Torino conoscono questa cosa lo stadio delle Alpi non è costato ai torinesi un soldo perché è stato costruito con il finanziamento della legge Capria e con il contributo del CONI per i mondiali del 90 tutti i soldi di origine centrale sui quali non ci sono gravi interessi per la città di Torino e con il quanto basta della concessionaria questo non è mai stato scritto né detto anzi si è fatto credere e si è scritto esattamente il contrario come se lo stadio fosse costato 180 miliardi 200 miliardi 300 miliardi i torinesi ovviamente hanno sempre creduto questa cosa non ci sono stati tangenti non c'è stata corruzione la città ha avuto 294 miliardi di opere accessorie che sono state investite e ne parlerà il vice sindaco di allora Aldo Ravaioli per opere di sostanziale utilità per la città è stato sviluppato il nord ovest di Torino che ha visto un aumento dei valori immobiliari notevole che naturalmente diventeranno soldi di tasse per il comune è stata aperta un'opzione che la città non conosceva è stata bonificata alla continazza è stata aperta un valore immobiliare per il mattatoio che adesso è in disuso e obsoleto e tutto questo non lo sa perché al tempo la città non aveva ancora la cultura di essere concessionaria al tempo come ha detto Luciano prima Torino era nell'incubo del scandalo Zampini gli amministratori pubblici erano per definizione impresentabili la politica amministrativa della città non era credibile e lo stadio che non venne affidato alla Fiat Engineering era sospettabilissimo siccome c'è la Fiat Recchi le più grandi imprese di Torino non prendono stadio ma nessuno ha mai pubblicato i difetti fondamentali nelle proposte che avevano fatto Fiat Engineering e Recchi al tempo non mi venne subito questo sospetto mi è venuto poi dopo quando ho studiato tutti i documenti ma noi abbiamo rischiato a quel tempo di vedere la gara deserta perché non era stato inserito nella delibera il codicillo per cui una gara sarebbe stata valida anche in presenza di una sola offerta e l'idea che tutte le offerte torinesi fossero fasulle perché mancanti di elementi sostanziali di rispetto della concessione veramente aveva messo la città in pericolo fortunatamente c'erano offerte da parte di imprese di fuori bocci di teramo e l'acquamarcia e la gara fu valida e nel voto finale venne affidato all'acquamarcia appena votata questa classifica e affidato l'incarico all'acquamarcia è cominciata la guerra tant'è vero che la prima edizione della stampa il giorno dopo il 13 di dicembre disse ha provato lo stadio ed è subito guerra poi nell'edizione successiva ha detto ha provato lo stadio 70.000 posti ma la prima edizione portava questo titolo che poi venne corretto da un redattore evidentemente più prudente si dai andiamo avanti un po' no no vai indietro vai indietro voglio il titolo cosa mi vuoi far vedere Terranova no indietro indietro questi li vediamo dopo è cominciata la guerra con tutta una serie di operazioni da parte della giunta e del consiglio di netto sabotaggio nei confronti della concessionaria la concessionaria aveva fatto la proposta di mettere un centro commerciale nello stadio proposta che venne bocciata e bloccata sistematicamente dalla giunta c'erano altre proposte che la concessionaria faceva per esempio quello di realizzare un parco alla continassa per completare con impianti sportivi con impianti per il verde pubblico attrezzato l'inserimento dello stadio anche questo venne bloccato ed è interessante questo fatto perché queste operazioni erano necessarie per integrare la proposta della concessionaria il centro commerciale sarebbe stato estremamente utile per aumentare il cespite di interesse del concessionario a fare bene l'opera ma venne bloccato tutto quanto rapidamente i rapporti tra la concessionaria e la città divennero duri aspri la concessionaria si riteneva tradita boicottata danneggiata e il consiglio e la giunta avevano l'impressione di avere a che fare non con una concessionaria ma con un appaltatore avido di denaro che continuava a chiedere soldi anche se non ne aveva diritto io ero in mezzo a questi due fuochi dovevo difendere da una parte la concessionaria che era in difficoltà perché non aveva più soldi era stato bloccato il credito su tutte le banche italiane e dall'altra parte dovevo in qualche maniera difendere la città nei confronti di queste richieste che molto spesso erano aggressive da parte della concessionaria l'episodio culminò nel 1989 con una lettera dell'avvocato Schlesinger di Milano che chiedeva l'apertura immediata di un arbitrato in corso d'opera perché loro avevano bisogno di soldi e speravano che con questo arbitrato in corso d'opera potessero recuperare dei soldi l'avvocato Schlesinger chiedeva qualche cosa della quale non aveva diritto perché l'arbitrato deve essere previsto dalle due parti quindi lui non poteva se avesse avuto diritto lo avrebbe fatto io scrisse all'avvocato Schlesinger una lettera durissima e Maria Magnano in noi mi disse Lorenzo se va male dai redimissioni l'avvocato milanese rimise il bandato la concessionaria continuò il suo cantiere finì i lavori consegnò lo stadio in tempo e noi abbiamo fatto poi i campionati come da programma per rimediare alla necessità di liquido della concessionaria è arrivata una banca giapponese vennero da me chiedero delle referenze sul conto della concessionaria che io diedi magnifiche e la concessionaria acqua marcia ebbe 40 miliardi da una banca giapponese con i quali finì lo stadio io non andrei avanti con i dettagli su quello che è successo allora perché mi interessa di più vedere cosa significa questa vicenda agli effetti della cultura di Torino e della capacità di progetto della città di Torino lo stadio delle Alpi è stato a suo tempo un'operazione di forte innovazione amministrativa di enorme coraggio imprenditoriale e di ingegneria che però è stata tradita dal contesto della cultura torinese in quel tempo noi eravamo impresentabili come amministratori perché sospettati nella coda dello scandalo Zampini e praticamente impediti ad operare una politica non credibile non può governare non può amministrare ma fate attenzione che anche una stampa non credibile non può informare e noi avevamo proprio queste due situazioni a Torino una politica non credibile e una stampa che non era libera io avevo parecchi episodi che mi confermavano questa cosa forse Luciano li conosce meglio di me perché li ha vissuti dall'interno io li ho vissuti dall'esterno e quando mi lamentavo per i titoli per il contenuto degli articoli un redattore tuo collega mi disse caro assessore abbiamo degli ordini e io di fronte a questo non avevo proprio molto da dire quello che bisogna fare sulla base della memoria della vicenda delle difficoltà dell'aggressione della stampa dell'aggressione io avevo poi a che fare anche con un'aggressione interna il partito socialista era in qualche maniera diviso perché voleva c'era tutta una parte dei socialisti che voleva tornare a fare il governo con il partito comunista e il PC aveva fatto delle promesse per cui mi votavano contro addirittura i colleghi della giunta e io devo fare delle manovre in consiglio nella giunta per avere i voti per far passare le delibere con manovre difficili perché ho dovuto fare accordi addirittura con Martinat che mi prestava i suoi voti per sostituire quelli dei compagni socialisti che non votavano per me va ricostruita questa cultura questa cultura di progetto le città sono organismi vivi e come organismi vivi devono essere alimentati continuamente da idee da visione da proposte da progetti una città senza progetto senza la progettualità di se stessa non può svolgersi non può crescere non può alimentare i suoi cervelli i suoi architetti i suoi ingegneri e lentamente muore le città vanno vanno io dico noi viviamo in città che altri hanno disegnato e disegniamo città dove altri vivranno ma le disegniamo come? le disegniamo quando compriamo quando andiamo a scuola quando andiamo all'università quando ci muoviamo nel traffico quando scriviamo articoli il progetto di città è un progetto che è continuo nell'attività della città se muore questo progetto la città muore e bisogna fare molta attenzione a questo e la stampa ha una grossa responsabilità quando sistematicamente si aggredisce ogni iniziativa della città è pericoloso perché alla fine si rende incapace l'organismo amministrativo politico di seguire ci sono due cave che bisogna che vi sottolinei nella criticare la stampa di allora che peraltro a un'analisi successiva potrebbe anche essere non solo comprensibile ma anche giustificata perché i giornalisti riferivano quello che avveniva in giunta quello che avveniva in consiglio riferivano alla bagarre delle varie fazioni e quindi avevano in un certo senso ragione nella loro linea negativa perché queste cose avvenivano c'erano contraddizioni ognuno faceva dichiarazioni diverse ognuno interveniva con la sua linea personale politica per guadagnare spazio sulla stampa lo stadio era un fatto importante per cui ogni intervento in consiglio contro lo stadio aveva sulla stampa un riscontro i consiglieri avevano piacere di vedersi riciclati sulla stampa quindi questo esercizio di intervenire continuamente in maniera aggressiva era in qualche maniera incoraggiato ma non vorrei che questa mia critica sul comportamento della stampa di 30 anni fa venisse strumentalizzata in un momento nel quale noi abbiamo disperato bisogno di una stampa libera e obiettiva la libertà di stampa non è una roba che si può soltanto garantire è una roba è un processo è un percorso è una roba che si deve anche meritare ed è questo che forse dovrebbe capire la stampa di Torino i giornali più che i giornalisti perché i giornalisti lo sanno benissimo ma i giornali forse non lo sanno tanto perché sono più vicini a delle zone di potere che non glielo consente ma è estremamente importante che la stampa sia libera e capace di portare avanti un pensiero libero e indipendente e io la difenderò questa libertà di stampa anche sulle barricate perché è fondamentale l'altra cosa importante da capire è la politica una politica corrotta una politica non competente una politica non responsabile non è credibile e l'unico strumento che ha un operatore politico per gestire bene la sua responsabilità è la credibilità se non c'è credibilità non c'è strumento di intervento la gente non crede non partecipa non segue diventa passiva diventa quello che abbiamo oggi di fronte una società inerte passiva assente dal fatto politico e questo fa morire la dialettica fa morire la libertà fa morire la capacità di impresa ed è importante questo fatto perché bisogna che quando io faccio lezioni ai giovani spesso li ricordo dovete occuparvi di politica la politica è il luogo nobile nel quale la filosofia incontra la storia e questo incontro va curato va gestito va alimentato non si può trascurare a Palermo ho fatto una lezione recentemente gli studenti mi hanno detto ma noi siamo nati nel 92 abbiamo visto ladri corrotti mafia morti ammazzati perché ci dobbiamo occupare di politica io ho dissi proprio per quello proprio per quello bisogna occuparsi di politica quindi nel mio documento e nei documenti che ho pubblicato trovate altre minuzie su questo episodio che sono stati interessanti c'è stato per esempio una delle difficoltà delle quali parlerà poi Ossola poche settimane prima dell'inizio del cantiere Renato Rolando che aveva fatto un accordo con la società Recchi perché si era accorto delle difficoltà che il sistema Torino avrebbe posto alla sua attività di costruttore in Torino e aveva tornato a dare la provazione e dice sì sì lo faccio io lo stadio va bene e avevano organizzato il cantiere per una grossa impresa che avrebbe fatto tutto pochi giorni prima però dell'inizio del cantiere Recchi si era consultato con i suoi colleghi torinesi e aveva visto che la costruzione dello stadio per conto dell'acquamartia gli avrebbe procurato forte ostilità e danni da parte del sistema Torino e disse a Renato Rolando non lo posso fare e nelle ultime pochi giorni Renato Rolando si è dovuto a dover riorganizzare tutto il cantiere poi Ossola ci dirà in dettaglio che è stato lo stadio delle Alpi è stato realizzato da una trentina di piccole e medie imprese torinesi organizzate in maniera logistica con una linea totalmente innovativa da Renato Rolando e dall'acquamartia e tutto questo ha significato un'enorme ricaduta si dice che i finanziamenti dello stadio delle Alpi non sono serviti a Torino per carità sono stati miliardi che sono andati a imprese torinesi a fornitori di materiali e componenti torinesi sono entrati nella dinamica macroeconomica della città e hanno alimentato hanno aiutato Torino a uscire dal tunnel che aveva caratterizzato sia l'uscita della fine della Fiat sia la crisi della Fiat sia la lunga attesa degli anni di nulla facenza perché valeva il paradigma chi fa ruba può darsi che sia stato anche vero in molti momenti della cultura di impresa italiana che chi fa ruba ma e lo aveva detto anche Piero Fassini aveva detto modernità uguale ladri citato da Cardetti in un suo famoso articolo l'importante è vero che chi fa ruba ma è lasciato rubare qualche volta è indotto a rubare c'è una responsabilità politica nel fatto che chi fa ruba bisogna che l'amministratore faccia e si dia carico e responsabilità perché non si rubi non si può evitare di fare per evitare di rubare bisogna fare ed evitare di rubare e questa è una responsabilità sostanziale della politica io voglio concludere il mio discorso vi rimando ai dettagli che trovate scritti con un segreto che forse si sta dimenticando a Torino e in Italia è un segreto banale il futuro ci sarà ineludibile questa città ha davanti a sé 50 100 200 300 anni di vita dei quali possiamo sapere poco noi non sappiamo cosa succederà a Torino negli anni fra 300 anni fra 200 anni ma sappiamo che Torino ci sarà e qual è il futuro di Torino il futuro di Torino è nelle mani del presente è nella cultura del presente che si fa il futuro ed è il futuro più probabile è quello voluto ed è su questo che bisogna lavorare per questo la città deve recuperare il rapporto con le istituzioni che a Torino sono responsabili di progetto chiamare le facoltà chiamare gli architetti fare concorsi per idee dare luogo e spazio alla capacità di pensiero e di progetto che c'è nella città ed è forte nella città ed è di successo nella città ma non la si può lasciare morire è inerte questo è il segreto che io vi dico e che vorrei che venisse recepito in qualche maniera perché è soltanto quando si crede che ci sia un futuro che si vive felicemente nel presente io vi ringrazio di avermi ascoltato e se avete domande poi le gestiremo grazie mille sì direi che lo spazio di domande lo apriremo dopo al termine di tutti gli interventi io prima di dare la parola all'ingegnere Vaioli vorrei soltanto ma come battuta la parola sospetto è venuta fuori molte volte sia nel tuo intervento sia in quello di Borgesan vorrei ricordare che il fondatore della scuola del sospetto qui a Torino è impazzito Friedrich Nietzsche quindi secondo me le cose non accadono mai per caso anche nei luoghi allora do la parola all'ingegnere Aldora Vaioli che è sindaco vicario all'epoca vice sindaco e puller assessore e anche presidente della commissione che valutò la concessione grazie buongiorno a tutti signore e signori direi che dal 90 non mi capita più di fare un discorso in questo edificio dopo 5 anni di opposizione 5 anni di governo i primi voluti i secondi devo dire piovuti dal cielo perché mai più mi aspettavo di dover andare al governo onestamente nel 85 pensavo che la mia carriera politica si esaurisse dopo i primi 5 anni ma veniamo all'argomento io parlerò un po' meno di Lorenzo dello stadio anche perché lo stadio fu sostanzialmente un'opera gestita prevalentemente da Lorenzo anche se voglio dire l'assessore Galasso è sottoscritto certo non fumo degli oppositori non creiamo delle difficoltà nella sua realizzazione magari abbiamo delle discussioni molto dure punti di vista anche molto diversi e poi dirò anche quali però non creiamo delle difficoltà perché non siamo mai contro il fare non eravamo contro il fare già allora io credo che sia molto importante contestualizzare quell'opera la cui straordinarietà ha accennato Luciano Borghesange che io sottolineo in un periodo particolare di Torino mi sono domandato molte volte come mai un'opera sì importante sicuramente ma che si collegava in quel momento a tantissime altre iniziative ne dico una per tutte l'abbassamento del piano del ferro che ha ridisegnato Torino sul quale è stato costruito una diciamo un piano regolatore intero beh ebbe molti meno dibattiti in consiglio comunale e molti meno articoli sui giornali di quanto non ebbe lo stadio è curioso tutto questo mi domandavo mi sono domandato per molti anni dobbiamo immaginare cos'era Torino in quel momento qual era il contesto Torino usciva da dieci anni di governo della giunta novelli molto travagliata nell'ultimo periodo devo dire negli ultimi cinque anni in particolare negli ultimi tre o quattro al di là dello scandalo Zampini travagliata da contrasti forti all'interno della sua maggioranza e da un'opposizione che si stava un po' consolidando era una giunta che era nata nel 75 all'insegna di un programma di novelli no alla metropolitana no al nuovo aeroporto no alla Torino Bardonecchia no ai sottopassi sia ai semafori intelligenti questo era il programma del 75 è la verità era così è scritto nella storia e nei documenti e questo noi ci ritrovammo nell'80 io ricordo quando iniziarono i lavori della Torino Bardonecchia dell'autostrada vi domandate perché io alla camera di commercio mi ricordo che dissi ma è semplice perché partono i lavori perché avete scoperto che quello quel buco era in realtà un tunnel da quel tunnel uscivano dei camion incredibile questi camion portavano via i balconi a Bussoleno del primo piano li hanno portati via tutti poi giravate per Bussoleno e non c'erano i balconi del primo piano perché i tir li portavano via e allora partì la Torino Bardonecchia questa è la la realtà di quegli anni è in quel clima che noi ci siamo trovati nella fine dell'84 inizio dell'85 gennaio dell'85 con la famosa giunta dei cento giorni a tentare di operare e devo dire che fu molto bello io mi divertì moltissimo in quei cento giorni era una giunta tripartita partito socialista partito repubblicano partito liberale con l'appoggio esterno della democrazia cristiana e del partito social democratico in quei cento giorni e negli anni immediatamente successivi fu disegnata praticamente quella che fu la che era Torino di oggi nessuno lo ricorda questo ma questa fu la verità cosa troviamo nei cassetti perché questo è il problema io trovai un contratto dei maxi tram no? un contratto per cento maxi tram che non potevano girare per Torino la famosa metropolitana leggera no? quella che doveva girare in via Cernaia buttando giù soltanto un paio di piloni c'era anche il progetto si buttavano giù i pilastri della passeggiata dei portici si faceva una traversa in acciaio per sostenerli esteticamente un bel lavoro indubbiamente se no il tram non girava perché la coda del maxi tram entrava sotto i portici mi trovai a fare a modificare un contratto non modificabile tant'è che forse primo si sicura Torino forse primo in Italia grazie anche all'aiuto del professor Siniscalco il papà di Siniscalco grande amministrativista Torino facciamo un contratto ex-ante cioè vale a dire un contratto rifatto in data 85 1985 con valore precedente ex-ante quindi per 51 maxi tram che ormai c'erano non si potevano non ritirare e 54 nuovi tram a pianale ribassato quelli che girano adesso quelli che sono diventati poi la storia di Torino tutti i tram sono diventati ma voglio dire io li avevo già presi in Germania cioè non inventavo nulla di nuovo i miei uffici anche li conoscevano bastava parlare con Piero Craveri che vedo qui seduto perché ti diceva subito quella è la soluzione quindi questo era quello che noi trovavamo nei cassetti non c'era nessuna opera ulteriore e non c'erano sottopassi ovviamente per carità di Dio gravissimo peccato terribile sta tornando è questo peccato e quindi partimo a costruirla e devo dire che credetemi io trovai una struttura di funzionari assolutamente pronti a ridisegnare una Torino diversa una Torino che andava verso l'esterno che andava verso il futuro che si apriva trovai delle ferrovie terribili due anni di litigi 40 incontri tra Roma e Torino terribili anche lì grazie a un ingegnere famoso ingegnere ballatore capo del dipartimento piemontese che in questi incontri non parlava mai ma poi in un ristorante Torino mi disse guardi che l'abbassamento si può fare al di là di quello che le dicono e mi dette due o tre suggerimenti per cui riuscimo alla fine a convincere le ferrovie proprio alla fine del tragitto perché eravamo in primavera al 19 di settembre scadeva il termine per presentare i nodi ferroviari a Torino alle ferrovie e riuscimo a cambiare da quelle ferrovie in superficie che trovammo quando arrivamo in giunta perché erano in superficie forse il vice sindaco Montanari sarebbe stato contento così avremmo evitato quella terribile autostrada urbana quella che adesso corre sulla spina terribile io sono stato a largo orbassano fino a piazza a largo baldessero giù in fondo quell'ingorgo basterebbe andare a scienze di sé per capire come risolvere il problema ma è meglio andare al politenico a farselo studiare perché il principio della incompenatibilità dei corpi non è ben conosciuto per cui le macchine non entrano una dentro l'altra per cui se arrivano otto corsie le fai andare su due corsie è difficile è difficile ma non importa beh io sono stato da largo orbassano fino al fondo ci sono 17 incroci semaforizzati ma se quella è un'autostrada una strada deve avere una cunetta ogni 5 metri e un semaforo ogni 10 se no non è una strada quindi lasciamo perdere le polemiche però questo fu quello che trovammo e quello che cambiamo e furono scontri duri in consiglio comunale perché c'era proprio un arrovesciamento di mentalità ci rifiutamo il principio del moderno e corrotto e il fare e rubare fu una cosa che fu completamente rifiutata e costruimmo un aeroporto nuovo costò 60 miliardi l'aeroporto nuovo lo facciamo con una velocità più veloce largamente la più veloce d'Italia senza sforare di una lira senza che nessuno rubasse e fu finanziato per metà per il 60% dalla Sagat Sagat che perdeva quando cominciamo ad occuparcene 500 milioni l'anno di lire e che poi un po' ristrutturata fu capace di finanziare 36 miliardi di investimenti in pochi anni perché perché era facile guadagnare credetemi allora con una società aeroportuale molto facile oggi è un po' più difficile ma allora era facilissimo i margini erano tali che soltanto gestendo bene non era così difficile bene in questa situazione in cui facciamo partire anche un piano regolatore nuovo stavamo lavorando su un piano regolatore del 1956 poi pensate Torino nel 1956 si arrivò a un milione e duecentomila abitanti circa sempre con lo stesso piano regolatore poi si cominciò a scendere di nuovo ma eravamo in quegli anni uscivano da Mirafiori 60 mila persone e entravano in Mirafiori 60 mila persone no nel 1956 no ne entravano diecimila però il piano regolatore era del 1956 tentarono prima di noi di fare un piano regolatore nell'80 ma non trovarono l'accordo e abortì il tentativo nell'86 negli uffici di Campia che è qui con noi perché noi io ho sempre lavorato con i funzionari straordinari funzionari che ho trovato in questi uffici e che ho trovato anche all'ATM nelle municipalizzate all'Assati bastava scegliere bastava scegliere e trovavi i funzionari capaci che erano che volevano fare anche loro e che poi erano anche capaci di farlo e riuscivano a farlo rapidamente fu tracciato negli uffici di Campia si decise il nuovo piano regolatore fu trato l'incarico a Gregotti e Cagnardi e fu avviato il piano regolatore allora basandosi su alcuni principi di base tra cui quelli che vi ho accennato altri fondamentali che sconosciuti ma nacquero allora in quegli anni fu deciso il cambio del modello di esercizio delle ferrovie e furono impostati i cosiddetti attestamenti incrociati Campia si ne occupa ancora oggi credo quindi però pochissimi conoscono tutto questo è sconosciuto ma questo cambiava rivoluzionava il sistema dei trasporti nella provincia di Torino perché questo terribile traffico torinese dalle analisi che facemmo per il 50% arrivava da fuori Torino e per il 50% proveniva dall'interno di Torino devo dire che progettiamo anche molti sottopassi alcuni di quelli che ci sono progettiamo anche dei parcheggi ma lì non ce la facemmo devo dire lo scontro era duro non eravamo solo contro il partito comunista giustamente all'opposizione con ancora le idee di cui vi ho accennato prima ma avevamo contro anche un pezzo della sinistra socialista che vagheggiava un ritorno a un governo delle sinistre avevamo qualche pezzo della democrazia cristiana che insomma era ossessionato dalla speculazione privata per cui tu dovevi fare un parcheggio non era pensabile che qualcuno ci guadagnasse doveva farlo perdendoci e non ne abbiamo trovati difficile trovare qualcuno che faccia delle cose perdendoci però lo progettiamo poi li abbiamo fatti sotto passo di piazza rivoli e poi è stato realizzato io mi ricordo quando cominciamo le prime analisi sull'inquinamento a Torino era al secondo posto al primo posto c'era via della consolata al secondo posto c'era piazza rivoli e poi c'era piazza aderna questi erano i tre punti più inquinati di Torino adesso piazza rivoli tranquilli si passa su un sottopasso mi piacerebbe andare là a fare un referendum adesso vi riportiamo il traffico in superficie sentire cosa dicono così come fare un'indagine di tutto a Torino dicendo vi portiamo le ferrovie sopra e il trincerone siete contenti sicuramente il rettore del Politecnico no perché fu grazie a quell'opera che il Politecnico raddoppiò dall'altra parte se ci fosse stata la ferrovia in mezzo la cosa era un pochettino più complicata quindi in questo contesto piomba lo stadio di Torino nell'84 Torino l'Italia si vede assegnata i mondiali di calcio nell'86 Torino ha il quarto di finale e ovviamente si richiedono degli stadi io sono abbonato ero abbonato alla Juventus dal 1957 e non ne ho persa una e quindi sono stato al vecchio stadio sotto la neve con gli scalini per sedersi per modo di dire perché ti sedevi avevi le ginocchia in bocca e se uno si alzava tutti e 20.000 si alzavano perché non c'era chance mi portavo i legnetti d'inverno si mettevano i legnetti quando c'era la neve si stava sui legnetti questo era lo stadio di Torino con molte crepe perché era del 33 non che non che avessero usato materiali non hanno usato i materiali del 33 e quindi le tecniche di costruzione del 33 era ancora in piedi ecco pensare di coprirlo usando quelle strutture era un po' azzardato mettiamola così leggermente azzardato oltre al fatto che c'era questo problema della domenica della quale chi abitava lì doveva tirare fuori la macchina al mattino presto dal cortile metterla parcheggiarla a un chilometro di distanza perché se no poi non usciva più fino a quando non era finita la partita mezz'ora dopo dei cortili non si usciva quindi arrivò lo stadio ci dissero c'è il quarto di finale uno stadio nuovo per qualcuno fu un problema per noi fu un'opportunità devo dire al di là delle valutazioni diverse e si cominciò a discutere come farlo questo stadio dove farlo in un tempo che era come diceva Borgesan incredibilmente corpore incredibile oggi tre anni neanche poco meno di tre anni per localizzare uno stadio decidere dove farlo e non fu facile la discussione quindi non farlo dove c'era il vecchio farlo da un'altra parte dove farlo e realizzarlo progettarlo e realizzarlo ci fu ovviamente uno scontro su ogni capitolo non temete si litigò su dove farlo si litigò su come farlo si litigò anche quando si decise di farlo nell'area della cosiddetta continassa qualcuno di noi conosciuta da qualcuno come Contina devo dire che noi eravamo favorevoli io ero favorevole a fare un nuovo stadio alla fine mi convinse che anche alla continassa valutavamo anche seriamente altre opportunità come la Pellerina ma c'erano difficoltà obiettive non superabili quindi alla fine quella era la soluzione migliore dalle analisi serie al di là anche per quelli che erano partiti con idee diverse come il sottoscritto riconobbe che quella invece era l'unica soluzione gestibile c'erano i nomadi c'erano tanti problemi c'era un'ostilità in consiglio comunale e poi c'erano tre incongruenze secondo me a mio giudizio 30 miliardi perché questo era l'importo iniziale 30 miliardi come massima spesa possibile dichiarata dal sindaco non si supereranno mai i 30 miliardi e quando mi diede l'incarico di presidente della commissione mi disse attenzione 30 miliardi e non un centesimo di più benissimo questo è la gara d'appalto lo rispetteremo la seconda incongruenza era coi 30 miliardi 69 mila posti Lorenzo non 60 mila 69 mila non a caso la stampa scrisse 70 mila perché erano 69 mila poi da 7 9 mila posti non si vedeva niente quindi erano in realtà 60 mila quelli utilizzabili ovviamente e soprattutto la pista di atletica e qui erano tre incongruenze forti perché 30 mila posti 30 miliardi con 69 mila posti e soprattutto con la pista di atletica a mio giudizio non erano conciliabili tra di loro si può dire ma allora perché l'avete fatto sì c'era una risposta semplice è quella che viene adottata normalmente basta dire di no basta trovare un colpevole diciamo che lo Stato è colpevole perché ci dà soltanto 30 miliardi ci dice di fare uno stadio nebbiolo lo vuole con la pista d'atletica non è possibile farla pazienza rinunciamo ai mondiali come alle olimpiadi come a tante cose basta è facile rinunciare è semplice non si rischia nulla non c'è alcun problema ed è fatto noi decidemmo comunque di andare avanti invece volevamo farli mondiali anche perché c'era oltre allo stadio c'erano delle opportunità di finanziamenti su tutte delle opere collegate che alla città servivano e servono tuttora e si cominciò la storia l'ha raccontata bene Lorenzo Matteoli io non starò quindi a ripeterla devo dire che ci troviamo alla fine onestamente con tre offerte Stadium Recchi sostanzialmente Fiat Engineering e Acquamarcia Recchi diceva secondo me giustamente dal suo punto di vista diceva se i conti non tornano lo pagate voi peccato che il bando e Cardetti mi diceva non una lira di più e lui invece lo metteva per iscritto Fiat Engineering aveva un difetto nella sua presentazione non presentava una rendicontazione completa di come faceva recuperare i suoi dichiarati 90 miliardi apro una breve parentesi io prima di cominciare parlai con una grossa impresa tedesca che aveva costruito gli stadi in Germania per i mondiali tedeschi e che non intendeva partecipare quindi non aveva conflitto di interesse ma erano amici e mi spiegarono quanto costava a loro giudizio uno stadio come quello e mi dissero guarda uno stadio così costa intorno ai 2 milioni a posto con la pista di atletica e per 60 mila persone costa intorno ai 2 milioni quindi tra i 120 e i 130 miliardi senza la pista di atletica e per 45 50 mila persone scendiamo drasticamente 1,3 1,4 milioni a posto la differenza era tra 120 130 miliardi e 60 70 miliardi secondo me la differenza era tra riuscire a farlo e non farlo ma però si decise di andare avanti ugualmente dico questo perché perché cosa diceva l'offerta che aveva quel difetto che accennava Lorenzo Matteoli però aggiungeva una cosa è difficile che i conti tornino nell'offerta se non tornano pazienza paghiamo noi e questo da un punto di vista diciamo economico mi tranquillizzava e quindi mi vedeva favorevole un'offerta che sgomberava dal campo una delle incongruenze più grosse l'offerta di acqua marcia era corretta a mio giudizio aveva un piccolo problema dichiarava un costo di 60 miliardi la metà di quello che io sapevo essere il costo reale diceva che era convenzionale però come accennava Borghesan prima e di nuovo perché ha fatto una bella ricostruzione Luciano non c'era la legge Mammi nell'86 non c'era ancora e non c'era neanche il sentimento di quanto valeva il recupero il recupero di denaro sulla pubblicità si sapeva che era più alto dei 300 milioni Matteoli ma Galasso e il sottoscritto facciamo una guerra arrivando a delle minacce anche molto forti per fare la gara per la pubblicità passando da 300 milioni a 2 miliardi e 7 fu una guerra che durò due anni non durò qualche mese durò due anni quindi il vero problema era come si fa a giustificare c'era un grande imbarazzo ve lo confesso da parte mia perché capite che coi meccanismi che esistevano allora esistono tuttora c'è sempre il problema delle riserve le varianti in corso d'opera in fondo con 4 varianti da 5 milioni di euro in lire di oggi tornavano i conti quindi si poteva immaginare qualche aggiunta al di là delle ostilità del consiglio comunale c'erano dei rischi io poi sapevo che c'era questa ostilità in consiglio comunale forte ma soprattutto difficile poi da contrastare e non volevo correre rischi di questo genere ed ero quando si arrivò alla fine con due contendenti onestamente Recchi servì per mantenere aperto il ballottaggio tra Fiat Inginery e Acquamarcia avevo dei grossi problemi onestamente avevo anche pressioni per far saltare il tavolo a livello di consiglio comunale su un semplice discorso di qui i conti non tornano poi Lorenzo Matteoli ci disse ma dove sta il problema il contratto lo scrivete tu e Galazzo e dico lo fate voi come volete io non ho problemi non ci metto mano a questo punto dice beh insomma il progetto è accettabile il contratto lo facciamo noi lo scriviamo noi noi con aiuti molto seri ma molto attenti facciamo lo stadio lo faremo perché il contratto non sarà scritto sull'offerta sarà scritto sul bando perché cosa fa testo è il bando che abbiamo fatto non l'offerta cosa mai scritta dai giornali mai detta da nessuno mai conosciuta e fu questo il motivo per cui alla fine fu molto difficile per non dire fu impossibile recuperare dei fondi rifacendosi al contratto chiedere delle varianti perché fu fatto in maniera molto molto bene mettiamola così fu fatto con grande attenzione io devo dire che ricevetti all'ultimo all'ultimo giorno poco prima della firma di Acquamarcia delle pressioni per modificarlo nel mio ufficio in fianco al vicino guardate non si modifica niente questo è il contratto ed ero veramente molto rigido non come quelli del 2,4% di deficit su PIL non si tocca nulla se no si torna in consiglio comunale e si ricomincia da capo e così partimo io dicevo tanto qui secondo me l'assessore Matteoli si sacrificherà sull'altare dello stadio e così fece bisogna dire che si sacrificò sull'altare dello stadio poi arrivarono le opere io mi occupai delle opere di contorno perché arrivarono molti soldi a Torino arrivarono soldi per l'aeroporto per la Torino Ceres arrivarono soldi per tutta la viabilità intorno allo stadio e la sistemazione relativa arrivarono pensate soldi anche per la Torino Bardonecchia di quello non ce ne occupiamo perché c'era Froio lì comandava lui anche se avevamo delle azioni eravamo tagliati fuori completamente anche questo in poco più di due anni grazie di nuovo devo dire grazie ai funzionari luoghi che si occupò di tutta la parte di viabilità fu migliorato l'aeroporto fu migliorata la Torino Ceres fu creata tutta la viabilità intorno allo stadio fu fatto anche fu famoso sottopasso che percorrete ancora oggi di Corso Grosseto Ferrara lo svincolo dell'autostrada su Venarì per l'ingresso allo stadio che allora una volta non c'era era un'uscita molto modesta tutta la viabilità intorno 200 miliardi più o meno completamente furono investiti in quel periodo in due anni e mezzo facendo i progetti esecutivi e gli appalti perché noi riuscimmo incredibili a fare i progetti esecutivi e gli appalti beh lo Stato stanziò per i mondiali 97.340 miliardi al di là degli stadi di cui vi ha parlato Lorenzo Matteoli nei quali Milano spese 80 miliardi Bari 185 miliardi per ampliare lo stadio e coprirlo 225 noi 47 non della città che poi rivendete guadagnando 55 miliardi quindi un bel affare per la città ma tutto questo fu fatto con una diciamo 7.340 miliardi nei quali le opere superarono gli stanziamenti ci fu uno sforamento dell'85% cioè le opere italiane sforarono i preventivi dell'85% noi risparmiamo il 15 e facciamo tutto facciamo tutto quello che c'era da fare e lo inauguramo nessuno ha rubato è incredibile si può fare senza rubare io credo che quando uno non fa perché ha paura che si rubi farebbe meglio andare a casa questa è la mia personale teoria perché se non è capace di fare senza rubare non merita di stare dove sta oggi non c'è più quello stadio io non mi sento responsabile se la Juventus e il Torino sono stati cioè noi non abbiamo ignorato la Juventus e il Torino la Juventus ha ignorato la possibilità di fare lo stadio Andrea Galasso si ricorda benissimo come andarono le cose cioè noi proponemmo alle squadre di calcio perché non lo fate voi se lo fate voi togliamo la pista d'atletica perché lo fanno delle squadre di calcio ci dissero no lo stadio è un nostro diritto voi dovete fare e noi lo dobbiamo avere questa è la fu la risposta poi furono immaginate soluzioni con un stadio insieme a delle licenze di costruire di edificare non praticabili e oggi c'è uno stadio nuovo che è stato costruito dall'amico Pierdomenico Rosso che è seduto qui in pochissimo tempo quanto tempo? due anni in due anni il nuovo stadio Allianz di Torino 45 mila posti senza pista d'atletica coperto fantastico ma perché in due anni? perché non ha dovuto discutere dove farlo? non ha dovuto chiedere una lira per le infrastrutture c'erano già per quello che in due anni a Roma forse in vent'anni non lo faranno e noi l'abbiamo fatto in due anni ma perché c'era già tutto il contorno c'era un tram Piero che passava sotto e arrivava di fianco allo stadio anche quello incredibile siamo arrivati con la linea con il 10 siamo arrivati fino di fianco allo stadio comunale e funziona oggi ancora benissimo funziona perfettamente ed è servito all'attuale stadio e oggi devo dire che la Juventus al di là della riqualificazione territoriale è una delle più grandi attrazioni turistiche che abbiamo purtroppo in mancanza di altri eventi l'evento Juventus Champions League piuttosto che Juventus Inter è diventato purtroppo una delle più grandi attrazioni non c'è più non c'è più l'Olimpia non c'è più Manet quindi è rimasta però la Juventus ecco questo è stato lo stadio il difetto qual'era e qui conclude e do la risposta alla domanda iniziale che mentre l'interamento delle ferrovie il nuovo piano regolatore lo stesso aeroporto che era quasi completato ma mancava l'aerostazione c'era tutto il resto nuova torre di controllo caserma dei vigili del fuoco tutto nuovo ma non c'era l'aerostazione tutto questo si sarebbe visto dopo no lo stadio veniva inaugurato prima delle elezioni del 90 e questo era un problema di qui tutta una battaglia secondo me oltre agli scontri di cui abbiamo parlato prima che ha dato origine a un numero di articoli di scontri di dibattiti di opposizione secondo me non giustificati però siamo contenti oggi di venire a spiegare e di raccontare alcune delle verità sconosciute perché abbiamo visto libri che parlano di sprechi dello Stato ho letto un articolo 536 miliardi per lo stadio di Torino una volta sono andato su Google e poi chiudo ho scritto Aldo Ravaioli e c'era in secondo posto c'era scritto Aldo Ravaioli puntini puntini presidente puntini puntini lo stadio della corruzione l'hanno rimosso io l'ho guardato ho detto allora l'ho aperto e poi facevo la storia però il primo attacco era quello Aldo Ravaioli puntini puntini presidente puntini puntini lo stadio della corruzione non so chi sia stato corrotto a me risulta nessuno qualche coglione forse perché non ha preso una lira e si è fatto non so perché cosa si sia corrotto ma di sicuro non è stata pagata una lira non è stata chiusa nessuna indagine non è stato condannato nessuno e abbiamo fatto crocevia e c'era lo stadio di fianco ecco io credo che bisogna avere il coraggio di fare le cose sia di progettarle e disegnarle per i prossimi 30 anni perché se non si ha questo coraggio il futuro ti pioverà in testa e non lo costruirai tu tanto il futuro arriva inevitabilmente come arrivarono i camion in uscita dai tunnel e si scoprì che occorreva l'autostrada qui arriveranno i treni lunghi un chilometro e quando arriveranno vicino all'Italia gireranno e andranno da un'altra parte però non importa perché ieri a Bruxelles hanno detto che il futuro non è il trasporto delle tonnellate ma dei bit allora io penso che i nostri amici norvegesi cinesi indiani accenderanno la televisione guarderanno una bella una bella immagine della Barbera o del Barolo di Alba noi diranno deve essere buona bevendo un fantastico Bojolet o Bordeaux francese ecco non vorremmo esserci in quel futuro vorremmo essere in un futuro diverso che va disegnato oggi però per 30 anni grazie grazie ad Aldo Ravaioli per la bella appassionata ricostruzione che ha fatto si voleva soltanto fare una puntualizzazione Torino ha ospitato una semifinale non un quarto di finale nei mondiali vorrei far vedere alcune diapositive rapidissimamente delle occasioni perdute con con lo stadio di delle Alpi doveva essere fatto un parco vicino allo stadio era la concessionaria che aveva proposto di fare il progetto lo aveva fatto per mano dell'architetto De Rossi un bel progetto di un parco integrato con i campi di allenamento che è stato bloccato per trent'anni adesso lo fanno lo farà la Juventus Alliance eccetera eccetera ma trent'anni di quella infrastruttura avrebbero significato lavori atleti allenati denaro guadagnato quante generazioni di atleti che si potevano allenare alla continassa abbiamo perso per questi venti anni di blocco su una proposta che era stata fatta nel 1989 e 89 questo era il progetto di De Rossi vai avanti ancora a vedere ecco c'è un progetto quello sul vecchio comunale eccolo qua questa è un'altra occasione perduta il vecchio comunale poteva essere riutilizzato come un centro multiculturale con aule per la università che ne ha sempre bisogno con centri di studio con sedi di società sportive eliminando l'assalto settimanale della calcisteria su piazza d'armi io affidai il progetto a Luca De Abate che è qua presente che fece un bellissimo progetto insieme a Dal Kelbo che era un architetto americano pioniere nella sostenibilità a Marina Gariboldi e a Carlo Novara un bel progetto che avrebbe riqualificato lo stadio nel rispetto del vincolo che era stato imposto dalla soprintendenza e anche questa è stata un'occasione perduta abbiamo rifatto lo stadio comunale per il calcio condannando la piazza d'armi a un abuso settimanale gravissimo ecco queste sono le occasioni perdute quando si ferma e non si pensa al futuro e non si pensa a progettare e a alimentare la città con idee e innovazione prima vi ho fatto vedere tutti i titoli della stampa avevano ragione i giornalisti non voglio fare una polemica Luciano aveva ragione perché riflettevano quello che avveniva nella giunta i bisticci i litigi i sotterfugi i franchitiratori quindi riferivano alla città quello che effettivamente veniva la città non era ancora capace di gestire una concessione non aveva la cultura necessaria per gestire una concessione le concessioni impongono una fiducia tra concedente e concessionario che deve essere la struttura del rapporto tra le due cose se i due si intendono come antagonisti è finito il senso della concessione il concessionario si sostituisce alla città e opera nel suo interesse se invece la città sospetta del concessionario lo odia per ragioni di campanilismo del sistema torino si perdono tutti i vantaggi e questo è stato il difetto da non ripetere cioè quando si commettono dei lavori il rapporto fra il commettente e l'appaltatore deve essere un rapporto positivo non può essere un rapporto di antagonismo invece nel caso del Dela P viene immediatamente innescata una operazione di antagonismo violento come testimoniano questi titoli e i titoli dei giornali poi alla fine non sono la gente riceve un messaggio che non è necessariamente la somma dei titoli la somma dei titoli che i torinesi hanno letto la fece una mano anonima di fronte a un muro davanti a casa mia in Tetti Rubino che scrisse Matteoli Porco quanto hai beccato per lo stadio io quella scritta non l'ho cancellata è rimasta lì per anni e poi qualche d'uno forse più saggio ha provveduto a ridipingere adesso non c'è più però questa era la vita che si faceva amministrando Torino a quel tempo è bene non ricommettere questi errori è bene progettare è bene avere una visione di futuro e i giornali dovrebbero sostenere la città quando un giornale come la stampa o la repubblica interviene sui fatti amministrativi praticamente governa la responsabilità dei giornalisti è una responsabilità di governo non è soltanto di informazione ed è questo forse che è mancato come coscienza grazie basta adesso una breve pausa caffè un quarto d'ora non di più caffè attende tutti quanti noi immediatamente e poi avremo un intervento del dottor Barbuto che è stato l'arbitro della contestazione dopo la pausa caffè dopo la pausa anche questa è una prima assoluta Torino non ha mai saputo nulla di cosa è successo è capitato adesso vorrei presentarvi il dottor Mario Barbuto già presidente del Tribunale di Torino e presidente del collegio che compilò l'arbitrato grazie posso confidarvi un antefatto anni fa quando ero ancora in servizio il professor Matteoli mi chiese che mi disse che aveva una proposta di parlare un convegno di questo tipo che era gradita la mia presenza e io dissi no abbia pazienza non intendo parlare pubblicamente di una vicenda anche in osseguo al principio che insomma non si commentano le proprie sentenze i giudici non devono commentare le facciano commentare gli altri ma non devono essere loro commentati adesso ho ripetuto la richiesta sotto un altro profilo così 30 anni la rievocazione storica e prima di rispondere ho tirato fuori da un angolo del mio studio i tre faldoni che avevo della vicenda dello stadio innanzitutto il lodo che ricordavo sì ma insomma ho approfondito e poi le centinaia di ritagli di giornale che avevo conservato e mi è venuto un po' di angoscia l'angoscia è perbacco io ho attraversato quel periodo così pieno di insidie lo vedete dai giornali però per fortuna non ho niente da rimproverarmi e non c'è niente da rimproverarmi da rimproverarsi sulla base della chiusura del lodo e allora ho accettato il carico perché? perché mi sentivo sereno mi sentivo assolutamente sereno oggi sono in pensione da due anni e mezzo sono in pensione per cui non ho neanche più il vincolo di non commentare il giudice non deve commentare le presentenze sono un cittadino che può commentare tranquillamente un evento che è accaduto 30 anni fa allora la prima slide perché possiamo devo segnalargli ogni volta ma sì magari le faccio un cenno ecco partiamo da questa clausa 36 io ometto di commentare di riferire sui fatti oddio devo stare qui no sui fatti anteriori alla convenzione fatti politici drammatici avete visto molto controversi non mi riguardavano se non come cittadino mi ha riguardato e come la convenzione firmata rogito notarile del 30 luglio 1987 quindi sono già 31 anni il rogito notarile all'arcalausa 36 firmata da tutte e due le parti diceva che qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione sarà definita ad un collegio di arbitri poi io ho messo come devono essere nominati questi arbitri collegio di tre arbitri l'arbitrato sarà rituale e adesso questo significa la parola rituale contrapposizione al libero il rituale eccetera significa che si applicano le norme del codice di procedura civile in un modo rigoroso come se fosse una causa civile assolutamente tutte le norme del codice civile e del codice di procedura civile tenete conto che trattandosi di una controversia riferita alla convenzione l'articolo 5 e diceva all'epoca l'articolo 5 della legge istitutiva dei tar che era del 71 che diceva tesoramente questo sono devoluti alla competenza tenetelo presente questo tenore della norma dell'epoca adesso è preannegato in un altro complesso di norme sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali tar i ricorsi contro gli atti e i provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni e servizi pubblici primo comma il secondo comma resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria o quelli ordinari giudici civili per le controversie attinenti indennità canoni e altri corrispettivi allora c'era una tesi assolutamente consolidata che risaliva all'immediato dopoguerra perché col vecchio codice la disciplina era diversa l'immediato dopoguerra dal 43 e poi dal 42 per cui tutte le controversie che riguardavano i diritti disponibili cioè i diritti su cui si poteva fare una transazione i diritti patrimoniali su cui si poteva fare una transazione i diritti transigibili erano di anche se appartenenti al TAR convenzione potevano essere decisi in sede arbitrale perché trattandosi i diritti disponibili si va davanti a un collegio arbitrale in ogni caso bisogna andare davanti al giudice ordinario quindi il TAR non c'entra niente per tutti i problemi derivanti le controversie derivanti da indennità canoni e altri corrispettivi i proventi della convenzione questo era lo stato della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali quindi si poteva andare davanti agli arbitri si poteva inserire una clausola di questo tipo in una convenzione è chiaro alla luce della giurisprudenza della normativa della dottrina della prassi soprattutto dell'epoca la convenzione per la costruzione dello stadio che conoscete perfettamente attraverso le relazioni fatte precedentemente poteva essere definito tranquillamente agli arbitrati meno ad un arbitrato meno ovviamente agli arbitri non si poteva ovviamente dire o la concessione è illegittima perché è stata violata la norma tale la norma tale nessuno si è mai sognato di dire che la convenzione era illegittima erano le conseguenze della convenzione che potevano che erano oggetto di lite allora comincia l'arbitrato al momento dell'arbitrato ovviamente quando ci insediamo si esamina qual era l'origine della lite l'origine della lite era un progetto offerto della SAPAM progetto vincitore ha vinto si è vinto regolarmente con polemica senza polemica noi non ci riguardava per niente assolutamente che era io vi costruisco uno stadio di valore di 98 miliardi però voglio la gestione per 30 anni ovvero invertito il comune costruiscimi una e io ti do la gestione dall'altra parte a carico del comune 30 miliardi e non più di 30 la differenza fra 28 e 30 quando la gente sente questa cosa che dice ma che suicida la SAPAM che costruisce uno stadio da 98 e prende 30 miliardi beh la differenza fra 98 e 30 pare a 60 e doveva essere recuperata attraverso la gestione trentennale immaginate 30 anni di gestione gli utili possibili e recuperabili al netto ovviamente tenuto conto ovviamente dei costi di gestione ordinaria e anche di manuzione ordinaria e straordinaria e allora lo stadio viene costruito non viene consegnato materialmente al comune di Torino benché i mondiali si erano lì fissati a distanza di un mese il comune si avvale di una certa clausola che è stato anche oggetto d'arbitrato per cui aveva diritto in base alla convenzione ad utilizzare lo stadio 5 volte all'anno per manifestazioni proprie quindi tutta la gestione meno 5 manifestazioni isolate al comune e allora la SAPAM inizia questo benedetto arbitrato domanda iniziale prima prima udienza informale voglio 258 5 miliardi attenzione oltre ai 30 già fattuiti e oltre ai poi parleremo di 14 voglio 258 miliardi a due titoli diversi ve li riassumo varianti in corso d'opera maggiori costi di progettazione e lavori risarcimento danni per fatti sopravvenuti all'offerto il ritardo nella consegna dell'opera il campo nomadi e la bonifica dei problemi anche di carattere pratico per la messa a disposizione dell'area il bancotto svincolo progressivo della fiduzione bancaria la decisione del comune di utilizzare i mondiali per 5 giorni e altro ancora un elenco di 258 miliardi questa cifra è rimasta impressa nella memoria di chi si è interessato dello stadio uno stadio che con 30 miliardi è costato 258 miliardi e tutti confondono fra i soggetti che hanno dovuto sopportare questo assurdo questa assurda triplicazione ma altro che triplicazione è quadruplicazione e quintuplicazione del costo iniziale il comune dunque oggetto però attenzione si fa l'arbitrato che dura ho calcolato dal giorno dell'inizianamento del collegio fino al giorno del deposto della decisione 41 mesi che corrispondono a 3 anni e 6 mesi tenete conto che secondo la giurisprudenza dei diritti della corte di Strasburgo l'attualità oggi è opportuna la citazione che ha interpretato la convenzione dei diritti umani un processo contenzioso non può durare non deve durare programmaticamente più di 3 anni al di là del quale la durata diventa irragionevole solo nel 2001 la corte la costituzione nostra è stata modificata per recepire questo principio giurisprudenziale della corte europea dei diritti dell'uomo e ha stabilito nell'articolo 111 della costituzione che il processo deve avere una durata ragionevole io per 15 anni che ho diretto gli uffici giudiziari anche prima quando dirigevo la prima sezione civile sono stato un assertore quasi maniacale che i processi contenziosi salvo eccezioni devono durare non più di 3 anni ebbene l'arbitrato è durato 3 anni e 6 mesi vi chiederete il perché di quei 6 mesi beh mia colpa mia colpa però gli eventi hanno ampiamente giustificato quella quella differenza se c'è tempo poi parleremo del perché e allora domanda finale dopo 3 anni di arbitrato la SAP modifica nessun domanda modifica per modo di dire perché sulla base dell'istruttoria e soprattutto dell'istruzione arbitrale ridimensiona la domanda a 164,8 miliardi che è già tanto però attenzione in via subordinata perché non potevano non tener conto delle valutazioni del collegio arbitrale in via subordinata dice io in ogni caso pretendo 246 miliardi in ogni caso nel caso che non vogliate accogliere questa mia domanda vi chiedo allora a un altro titolo a un titolo totalmente diverso rispetto alla convenzione vi chiedo 246 miliardi comprensivi dell'indennizzo per arricchimento senza causa del comune di Torino articolo 2041 del codice civile chi pratica le norme giuridiche sa di che cosa si tratta è una norma proprio residuale l'arricchimento senza causa e l'indebito un'altra ipotesi in parole semplici il comune sarebbe diventato a conti fatti sarebbe proprietario di un manufatto del valore superiore a quello patuito a danno della controparte e senza giusta causa questa era la domanda bella così conclusiva quindi sia per giustificare i 246 e in parte giustificare i 258 precedenti il comune di Torino il comune di Torino a sorpresa alla prima già all'inizio della procedura arbitrale chiede che il collegio dichiari il proprio difetto di giurisdizione perché perché è competente il Tar però attenzione sembra contraddizione fa la clausola la competenza degli arbitri arriva lì contraddizione la clausola è stata fatta in sede comunale in amministrazione comunale l'eccezione è stata fatta dagli avvocati che hanno visto meglio la vicenda articolo 5 parla di concessione la vicenda del Tar però sono preoccupati da questa questa eccezione che bloccava totalmente in radice e all'inizio la procedura arbitrale e allora dicono però attenzione da decidere con l'odo parziale l'odo non definitivo proseguendo le istruttorie in altre parole chiedono al collegio per favore diteci subito la vostra siete avete la giurisdizione o non ce l'avete perché se avete la giurisdizione se dite abbiamo la giurisdizione noi andiamo possiamo impugnare possiamo impugnare il lodo che si chiama lodo parziale lo possiamo impugnare immediatamente e quindi entro tempi possiamo risolvere il problema se invece dite che non avete la giurisdizione chiudete e noi andiamo subito al Tar dimenticando un particolare che c'era una giurisprudenza straconsolidata e anche un dato normativo in materia di arbitrato che diceva questo compresa le sezioni della Cassazione che il lodo parziale parziale definitivo nel nostro caso dichiara la propria competenza siamo competenti e andiamo oltre non è impugnabile immediatamente non si può fare il regolamento di giurisdizione in Cassazione non si può fare il ricorso in appello per l'annullamento del lodo perché è un lodo parziale deve essere deciso il decisum il dictum la domanda del lodo parziale deve essere decise insieme con il merito giurisprudenza straconsolidata però il comune non ha commesso l'ingenuità di chiedere un qualcosa che non poteva ottenere ha chiesto un qualcosa che consentisse di mettersi l'anima in pace per dire siamo davanti a un arbitrato che è competente che ha la giurisdizione e poi proseguiamo se l'arbitrato dice che non ha la giurisdizione e bene andremo davanti al tar questa è la strategia difensiva del comune che è corretta sostanzialmente però è stata vista come spunto all'improvviso l'ipotesi manca quasi un pentimento del comune niente affatto è una coerenza e completezza di motivazione nel merito in via principale ricettare e nel merito in via riconvenzionale sapete che significa la riconvenzionale tu chiedi una cosa a me io non solo non ti do una lira e dico che è tutto infondato ma sono io che chiedo a te sono io che divento l'attore nella pretesa in via riconvenzionale condannare la sapam io prefisco parlare di sapam che è ufficialmente il suo nome molti parlano di acqua marcia a Torino mi diceva l'ingegner e il professor Matteoli che acqua marcia suonava male a Roma no a Roma c'è l'acquadotto la fontana dell'acquamarcia con un fantrone splendido immortalato dal primo di Sorrentino della grande bellezza insomma l'acquamarcia a Roma è conosciuto come un acquadotto come l'acqua l'acqua vergine e altre acque del genere condannare il risarcimento per le numerose inadempienze quindi il comune passa all'attacco in misura ad accertare in corso di consulenza d'ufficio ecco proseguendo nell'arbitrato per la mia domanda riconvenzionale la logica tiene andiamo avanti quali sono le domande riconvenzionali del comune è lunghissima la slide difficile da leggere però ve l'ho voluto elencare ne prendiamo qualcuna risarcimento dei danni in misura conforme alle risultanze peritali da liquidare con equo apprezzamento quindi non dice il comune quanto vuole equo apprezzamento quali sono le voci difformità dell'opera rispetto al progetto uno e quindi la depiezza fondamentale divergenza fra opere realizzate e impegni assunti dal comune poi i margini di sicurezza sono inadeguati c'è una difformità delle rampa d'accesso non hai costruito sei palestre le biglietterie sono inferiori a 88 la protezione dell'opera metallica eccetera eccetera fra cui perfino l'interasse delle poltrone che non era di 48 cm come deve essere ma di 45 perfino il display gigante che era diverso da quello che era stato convenzionato quindi vedete come il comune non gioca solo in difesa gioca in attacco e gioca sul concreto primo accertamento per i tali il collegio si trova nella difficoltà di accertare e valutare accertare innanzitutto andiamo a misurare l'interasse noi tre del collegio i tre eravamo io l'avvocato grande Stevens e l'avvocato Paolo Miglio Ferreri nomi di a Torino diranno pure qualche cosa sono erano all'epoca che sono ancora oggi i principi del foro i numeri uno ex secuo del foro torinese cosa accertano i due consulenti tecniche di ufficio docente del Politecnico affiancati da due consulenti del comune e un consulente della SAPAM e con un 14 diventano 18 collaboratori specialistici riprogettano lo stadio fanno i lavori fanno un lavoro in mane 36 38 volumi consegnati con le risultanze con un volume riassuntivo accertano che se si che lo stadio sarebbe costato 166 126 7 miliardi valore costo dello stadio costo valore insomma e che corrisponde a 156 quale costo medio di mercato non sto ad approfondirvi la differenza che hanno voluto fare fra costo e costo medio ma è intuitivo ecco conclusione la SAPAM ha percepito 44 miliardi di cui 30 miliardi destinati a fondo perduto da una legge dello Stato che prevede uno stanziamento io ho verificato nello stanziamento nella legge originaria c'erano 400 miliardi per i campionati del mondo distribuito su 12 città quindi 30 miliardi su 400 destinati a Torino erano una cifra che non corrisponde neanche a un dodicesimo tenuto conto che qui si ricostruiva ex nuovo uno stadio 44 miliardi di cui 30 derivanti dal mutuo CDP Cassa Depositi e Prestiti che doveva essere ammortizzato dallo Stato quindi neanche una lira a carico del Comune infatti il Comune l'ha messo in una posta di bilancio particolare con l'indicazione che era da ammortizzare che l'apportamento era a carico dello Stato poi 14 miliardi versati versati apparentemente ho scritto nel Comune di Torino soprattutto per l'adeguamente l'esigenza di mondiale di calcio fra cui la pista di atletica imposta da Alconi fra cui i lavori che ha resi necessari dagli interventi dei vici del fuoco da varie autorità attenzione i consulenti hanno anche questa accortezza siccome hanno valutato il costo dello stadio 126 o 156 nel 94 con riferimento all'epoca della costruzione che è 1990 90 89 90 all'epoca c'era una valutazione galoppante e allora i valori monetari i 44 miliardi sono stati rimonetizzati con valore monetario all'epoca e sono 38 miliardi quindi teoricamente bisogna dire lo stadio è costato 38 miliardi alla comunità nazionale intendendo comunità nazionale la cassa depositi e prestiti che paga lo Stato che rimborsa il Coni che impone al Comune il Comune che si fa andare da Alconi e fa la pistata atletica e tutte le spese varie che il Comune ha chiesto e questo è il primo accertamento per Italia andiamo avanti ulteriori accertamenti perché non era sul riscosto dello stadio quella era la voce più grossa da valutare che comportava la riprogettazione e la rivalutazione di ogni singola voce nel paragrafo 9 dell'Odo che abbiamo redatto in collegialmente in 3 dal titolo le risposte agli altri quesiti vengono esaminate tutte le altre questioni poste in ballo soprattutto le voci molto analitiche del Comune che faceva la domanda riconvenzionale ma anche quello della Sapam queste voci sono state elencate nel lodo motivate nel lodo non decise motivate esposte nel lodo spiegate nel lodo dai paragrafi nel paragrafo 15 per un'italietà 15 ma in realtà è formato da 20 paragrafi 20 sotto paragrafi numerati da 20 a 20 q se leggete il lodo vi accorgete che quella è una parte molto lunga e molto tecnica in cui il collegio dice esamina quello che hanno fatto i consulenti e traspare chiaramente dalla valutazione del collegio arbitrale che i CTU Caposio e Baldelli docente del Politecnico con l'aiuto dei consulenti di parte uno l'ingegnere presente e un altro consulente che era adesso non ricordo il nome comunque Luciani e Castiglia per la Sapam facendo trasferire l'apprezzamento del collegio arbitrale per la completezza e l'esaustività delle risposte in altre parole siamo soddisfatti abbiamo fatto una consulenza che è costata un po' di lire insomma non diciamo quanto ma è costato spese vive a non finire onorari adeguati al valore dell'opera e dell'attività sulla quasi totalità delle voci esaminate andiamo avanti valutazione finale del collegio il collegio questo arbitrale i tre giudici noi tre esaminiamo questa roba qui e diciamo abbiamo inquadrato il preciso ambito della controversia il collegio ritiene opportuno di chiamare le conclusioni per Italia allo scopo di adempiere al dovere di informazione quindi tutto questo sforzo è per informare per comunicare all'esterno nei confronti delle idee esteratari del lodo entrambe rappresentate dai nuovi amministratori forse ignari dei complessi sviluppi del procedimento l'esposizione è un rendiconto delle complesse attività peritari e istruttori svolte nel corso del procedimento a spese delle parti le cui risultanze non possono non avere rilievo nell'eventuale seguito del contenzioso con ciò rimettendo le parti davanti al TAR per la decisione attenzione ignari del complessi nel frattempo sono cambiati quattro se non cinque sindaci e altrettanti consigli comunali la SAPAM è entrata in crisi ha chiesto il concordato preventivo è stato nominato un commissario giudiziare davanti al tribunale di Roma il commissario giudiziare è comparso ci sono stati tentativi di conciliazione incentrati in pratica su una sola proposta allungateci almeno gli anni della concessione abbiamo fatto un pessimo affare allungateci non è stata accettata poi il pacchetto azionario della SAPAM il controllo della SAM è passato ad un'altra società comprensibilmente perché la SAPAM era straindebitata anche per la costruzione dello stadio aveva in corso altre operazioni il mulino stucchio a Venezia e insomma è passata di proprietà ed è diventata proprietà di altri rispetto a prima quindi tutti è venuto in udienza il nuovo amministratore e ha detto io non so niente tutta questa vivienda spiegatemela e allora gli abbiamo spiegato nel lodo era il dovere di informazione in base alla teoria si giriamo in base alla teoria del mandato gli arbitri sono dei mandatari hanno ricevuto un mandato congiunto da due mandanti collettivi un mandante unico ma collettivo di due persone congiunto degli arbitri i mandatari hanno l'obbligo di rendire conto il mandatario deve rendere conto al mandante del suo adempimento del mandato e il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la dirigenza del buon padre di famiglia quindi noi avevamo l'obbligo di informare l'obbligo di esporre quello che era successo andiamo avanti i due nuclei ecco quest'obbligo l'abbiamo adempiuto attraverso due nuclei motivazionali primo nucleo sono praticamente metà e metà del lodo metà e metà del lodo sono i paragrafi 14-20 il profilo pratico chi avrebbe ragione chi avrebbe torto in questa vicenda paragrafi da 1 a 13 il profilo giuridico è il nucleo decisorio sulla giurisdizione chi deve decidere su chi ha ragione chi ha ragione e chi ha torto è il collegio arbitrale o il tar decisione finale del 95 alla fine è il tar e non l'arbitro l'abbiamo dovuta con la morte nel cuore abbiamo dovuto adottare questa decisione era l'unica consentita in quel momento perché perché se dal 1942 con il nuovo codice di procedura civile fino al 1900 fino al 1995 93 veramente quando l'arbitrato dicembre 93 quindi gennaio 94 quando l'arbitrato era pressoché finito c'era una giurisprudenza una normativa una dottrina unanimamente concordi nell'affermare quello che ho detto all'inizio che sia competente il tar o che sia competente il giudice ordinario se i diritti sono disponibili se i diritti controversi sono transigibili è compromettibile in arbitrato la dita è compromettibile in arbitrato e noi siamo andati avanti con questa condizione non espressa non abbiamo voluto esprimere nel lodo parziale se c'è tempo poi vi dirò del perché non abbiamo detto nel lodo parziale era inutile non era impugnabile ci sbilanciavamo soltanto abbiamo fatto bene a non dirlo solo che nel 93 nel dicembre 93 arriva a sorpresa con un fulmine una sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione relativa alla costruzione e gestione della Cassa di Palermo esattamente identica alla nostra fattispecie concessione e gestione che ha affermato e no tutto sbagliato nel passato quando si parla di concessione e c'è la giurisdizione esclusiva del TAR con esclusione della procedura arbitrale anche se si discute di diritti di corrispettivi di interessi anche se il contenuto concreto è disponibile transigibile c'è giurisdizione esclusiva inelutibile con conseguente nullità della clausola arbitrale eventualmente prestata eventualmente stipulata cosa succede? attenzione secondo le teorie anteriore al 93 di Cassazione i giudici di merito dottrina consolidate è il TAR ma anche l'arbitro quindi giustamente il comune a suo tempo nell'articolo 36 ha detto senza imbarcarsi se la discussione del TAR o della cosa giudizio arbitrale perché la natura delle controverse lo consentiva nel dicembre del 93 10 dicembre 93 la sentenza l'abbiamo conosciuta solo a gennaio però del 94 tutto cambia andiamo avanti allora noi abbiamo dichiarato torniamo indietro è troppo presto allora noi abbiamo detto la competenza del TAR non dell'arbitro abbiamo dichiarato l'annunità della clausola arbitrale dichiarato l'annunità della clausola arbitrale nel dispositivo nel dispositivo il dispositivo è il PQM per questi motivi alla fine non potevamo entrare nel merito perché chi ha ragione chi ha torto doveva decidere il TAR e questo l'opinione pubblica non l'ha capito infatti il leitmotiv dell'epoca era il TAR dopo 3-4 anni 3 anni in realtà 3 anni e 6 mesi ha deciso di non decidere poi vedremo un titolo di giornale significativo ha deciso di non decidere niente affatto abbiamo deciso di non decidere su chi ha ragione e chi ha torto ma abbiamo esposto tutte le ragioni per dire chi avrebbe ragione chi avrebbe torto e tutte queste cose che abbiamo scritto e accertato è verificato serviranno sicuramente al TAR se volete andare davanti al TAR andiamo alla slide successiva nessuna delle due parti ha portato la lite davanti al TAR nessuno nel comune ci hanno pensato un po' era maggio del 1995 maggio 12 maggio sono passati i mesi nessuno ha portato la lite davanti al TAR facendo tacitamente acquiescenza all'odo e accettando le argomentazioni del collegio sostanzialmente non risulta che alcun organo di informazione abbia mai sottolineato il vero significato di questa omissione di questo non evento non è successo nulla se non è successo nulla vuol dire che l'arbitrato del 12 maggio rimaneva lì in piedi a dire abbiamo accertato questo ma deve decidere il TAR nessuno sollece il TAR a decidere che non può decidere mica d'ufficio nessuno si rivolge al TAR vuol dire che è un evento ebbene di questo evento seguito dal non evento della non andare davanti al TAR nessuno ne ha parlato comprensibilmente un non evento i giornalisti non sono obbligati a dirlo non risulta che qualcuno abbia commentato pubblicamente il significato vero contenuto del paragrafo 19 del Lodo che è leggibilissimo l'abbiamo scritto apposta in forma leggibile perché era destinato ad amministratori nuovi ad assetti proprietari nuovi a persone che non sapevano nulla dei precedenti che è la sintesi della guerra giudiziaria fra Sapome e Comune di Torino cessata proprio il 12 maggio del 95 andiamo avanti nei mesi storica l'ho chiamata arriva il nuovo codice di procedura del nuovo codice amministrativo arriva attenzione nel 2010 2010 sono passati già dal 95 15 anni arriva il nuovo codice di amministrativo che dice la competenza è del TAR ma anche dell'arbitrato anche dell'arbitro se le parti così vogliono attraverso un prediscorso una premotivazione molto semplice per i giuristi mi rendo conto un po' leggermente più ostica avrebbe bisogno di essere spiegata per i non addetti ai lavori mentre nel 93 la Cassazione ha detto il rapporto TAR arbitro TAR è arbitro giudice ordinario è un rapporto di giurisdizione che attiene alla giurisdizione immaginate una sfera più ampia la giurisdizione per cui tutto ciò che appartiene alla giurisdizione del TAR non è arbitrabile tutto ciò che appartiene alla giurisdizione del giudice civile è arbitrabile invece in precedenza non era così ma in un modo poco chiaro poco razionalizzato con il codice del diritto amministrativo si dice esiste la giurisdizione del TAR ed esiste la giurisdizione del giudice civile nell'ambito della giurisdizione del TAR di confini è possibile anche ricavare una competenza arbitrale relativamente solo alle questioni disponibili nell'ambito della giustizia civile tutto è arbitrabile implicitamente meno le questioni non disponibili la unità di un matrimonio o un divorzio non si può transigere con un arbitrato chiaramente e allora attraverso trasformando la tesi della giurisdizione esclusiva del TAR rispetto al collegio arbitrale trasformandola in giurisdizione del TAR esclusiva ma per i diritti disponibili competenza nell'ambito della stessa giurisdizione del collegio arbitrale tutto si tiene attenzione in realtà questa norma qui non nasce dal nulla perché era stata già anticipata nel 2001 ma pur sempre a distanza siderale dal 95 sei anni abbondanti dal nostro lodo nel 91 attraverso una legge un articolo 6 di una legge che riguardava la nuove norme sulla giurisdizione amministrativa quindi un'anticipazione del codice nuove norme quindi dal 2001 ufficialmente poi in modo eclatante dal 2010 si è tornata la situazione ante 93 in sintesi la sentenza che noi abbiamo dovuto subire nel 93 non 95 noi lo subiamo è del dicembre 93 è stato un fulmine che ha bruciato un po' di alberi e poi tutto è tornato normale e tutto è tornato esattamente come prima con maggiore razionalizzazione andiamo giriamo troppo tardi ecco il commento troppo tardi torniamo prima ma era troppo tardi per l'affare delle Alpi che ormai era già chiuso e mi avvio ho già concluso commenti giornalistici immediatamente dopo la pubblicazione della pubblicazione e la pubblicità data all'odo da parte del comune delle parti dell'altra parte dopo quattro anni di inutile perizie di costi miliardari inutili perizie e costi miliardari Stadio deciderà il Tar un altro giornale si chiude senza vincitori l'arbitrato comune acquamarcia sui costi di costruzione Stadio quattro anni per uno 0 a 0 e ora la palla fa saltare questo è l'unico messaggio che i lettori dei principali giornali non faccio i nomi hanno ricevuto per la conclusione dello stadio andiamo avanti ho quasi finito nessun con me ecco attenzione commenti giornalistici dei mesi successivi perché perché si verifica il non evento paradossalmente per dirla con Alicia nel Paese dei Meravigli il non evento dell'omesso ricorso al Tar nessuno va davanti al Tar allora se nessuno va davanti al Tar che cosa rimane? rimane il lodo arbitrale che è diventato una decisione di mandatari tre mandatari tre mandatari sulla base di un mandato di due di due parti litiganti rimane quella 12 maggio ebbene nei mesi successivi non ho detto quanti mesi ma adesso capirete perché nessun commento sul fatto che i litiganti non hanno portato davanti al Tar sia il Comune che la Sapam hanno fatto acquiescenza al lodo del 12 maggio nessun commento sul risultato finale questo è importante il risultato finale attenzione il Comune ha acquisito la proprietà di uno la proprietà attenzione proprietà di uno stadio che è costato fra i 126 e i 156 milioni calcolando costo di mercato costo medio l'ingegnere Ravaioli ha parlato di un costo accertato in Germania 120-130 ci siamo la giustezza della valutazione arbitrale il Comune non avversare qui ci tengo a dirlo una sola sembra il difensore del Comune ma insomma ce ne siamo resi conto in sede arbitrale cosa costa il Comune tutto questo neanche una lira in più rispetto a quanto patuito nell'87 cioè 30 miliardi finanziati dallo Stato lo Stato ha deciso di finanziare l'Olimpico ha deciso di finanziare il San Nicola di Bari io mio perché non finanziare delle Alpe di Torino non si chiamava ancora delle Alpe ma lo Stato di Torino 30 miliardi a carico dello Stato più 14 miliardi proprio scritto in proprio ma in realtà ne avevo il sospetto ma l'ho avuto una conferma stamattina sono soldi a carico del CONI perché il CONI ha imposto l'affistata atletica eccetera però dentro ci sono anche delle somme che non riguardano il CONI ma riguardano i vigili del fuoco la vigilanza eccetera piccole somme insomma però siamo 14 miliardi che sommati insieme attenzione sono 38 miliardi rapportati ai valori monetari dell'inizio di questa storia è imposta tale 44 miliardi incassati dalla SAP che in compenso poteva godere della gestione per 30 anni come patuito ebbè la differenza fra 44 miliardi no sì 44 miliardi e 126 o 156 che avrebbe sborsato e che erano un debito verso le banche in pratica ma sostanzialmente doveva essere recuperato attraverso la convenzione chi ha fatto un buon affare chi ha fatto un pessimo affare e che ne sappiamo dipende dai costi di gestione e dipende da come si sfrutta la gestione pubblicità quanto costa la pubblicità con l'avvento poi delle televisioni di privato e delle esclusive per le trasmissioni delle partite sai quanti soldi in pubblicità si potevano ricambi dai 5 ai 3 miliardi ecco facile il comune attenzione i costi miliardari dell'arbitrato è il costo di una qualunque causa civile per onorari di avvocati di quel valore ci sono delle tariffe professionali il comune ha pagato la metà delle spese di consulenza tecnica la metà perché l'altra metà l'ha pagata la sapone ha pagata la metà del compenso del collegio arbitrale due principi del foro più un povero magistrato tirato fuori dal tribunale insomma io ho fatto fare ai professionisti la parcella si sono tenuti molto ma molto sotto il limite del vero tant'è che gli avvocati dicevano insomma ma potevate alzare un po' perché noi eravamo in imbarazzo per fare la parcella finale oltre agli onorari di quattro avvocati per il comune più due consulette di parte la SAP oltre agli onorari di quattro avvocati anche loro principi del foro il professor Trimarchi l'avvocato Leichmann il professor Pericudi due professori di collegi difensivi di assoluto rispetto e di primo ordine e hanno pagato ciascuno alle sue parti perché perché noi nell'arbitrato abbiamo detto le spese sono compensate liquidatevele voi perché avete torto ma ragione tutti e due andiamo avanti chiusura ecco le ragioni del silenzio perché nessun giornale ha parlato di tutto questo perché ce l'aveva con noi perché voleva farci un dispetto perché la notizia non era importante io sono più benevolo perché insomma hanno esagerato anche sugli altri aspetti perché non ci volevano bene perché non volevano bene a Tizio non volevano bene a Caio ma questo è un discorso che non ci riguarda nessun organo di informazione ha mai risposto alla domanda ma chi ha fatto un pessimo affare e chi ha fatto un buon affare voi avete tutti gli elementi in questo momento per decidere gli opinionisti si sono concentrati su un altro tema siamo sì su un altro tema riassunto dalla stampa del maggio 96 quindi un anno dopo attenzione 12 maggio 95 il lodo arbitrale a maggio 96 compare questo titolo dopo una serie di polemiche un anno dopo il lodo con questo titolo profetico detto io fra virgolette il delle Alpi deve essere abbattuto la ragione costava troppo la gestione la manutenzione la SAP era in crisi aveva cambiato assetto azionario lo stadio la concessione era passata in un patrimonio in un modo strano per cui era detenuto in pratica da una banca la banca poi non sapeva che farsi di questa concessione e insomma poi alla fine lo stadio la gestione è tornata al comune chiedeva di poter cedere al comune la SAPAM che voleva liberarsi di questo peso che ingolfava il suo indebitamento già grave e ha chiesto al comune se si prendeva questa concessione con la proprietà che già c'era per 16 miliardi complessivamente polemiche a non finire neanche una lida in più il principio è lo stadio è stato un errore guaglia a rimetterci ancora dei soldi la carriera dura a lungo io ho un pallone così di articoli giornali che l'altra sera mi sono messo a leggere non sono tutto smesso perché è tornata la delusione e l'irritazione di 30 anni fa alla fine il delle alpi è stato demolito forse tolto il corpus della lite è finito tutto ma quella dell'abbattimento e di quello che è seguito dopo l'abbattimento è un'altra storia di cui io non c'entro a tutti io non c'entro a tutti abbiamo ora la parola all'avvocato Andrea Galasso assessore allegale ai tempi prego ma io che cosa volete che io dica che cosa volete che io dica io mi sono battuto per difendere l'operato di Lorenzo Matteoni tutto qui non abbiamo preso mazzette questo è poco ma sicuro questo è poco ma sicuro io invito tutti quelli che hanno vissuto la nostra vicenda a dire qualche cosa perché noi Lorenzo era un 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 che da fare i complimenti a Lorenzo ringraziare il dottor Barbuto che ci ha voluto onorare della sua presenza e della sua parola per chiarire gli aspetti dello stadio comunale E quindi forza Juve, forza Toro. Arrivederci. Qualche cosa dico alla fine sulle conclusioni dell'arbitrato, quello che viceversa vorrei segnalare dopo che l'argomento è stato trattato per l'interesse amministrativo, politico e giudiziario, vorrei trattare l'argomento dal punto di vista dell'interesse tecnico che ha rivestito quest'opera. Una grande opera di ingegneria, assolutamente nuova, come concezione, la più grande tensostruttura al mondo di questo tipo, è realizzata in un tempo assolutamente breve, poco più di 20 mesi, con un appuntamento fisso, agli occhi di una visibilità internazionale straordinaria, perché era l'inaugurazione dei mondiali. Quindi un'opera rilevantissima dal punto di vista dell'ingegneria e dell'architettura italiana. Quindi io voglio ricordare questo aspetto dello Stato delle Alpi. Per questo vi chiedo solamente la possibilità di partire da qualche elemento di base, forse troppo tecnico per questo auditorio, ma lo voglio ricordare. Dunque una struttura di funi, è una struttura di funi, assolutamente nuova. La fune rispetto agli altri elementi strutturali tradizionali con cui si costruisce, elementi che consentono di resistere a trazione, a compressione, a flessione, a torsione. La fune resiste solo a trazione e questo è il primo aspetto importante. Cioè costruire con un materiale che resiste solo a una delle sollecitazioni e quindi è in grado di portare i carichi solo con una possibilità di resistenza, a trazione. L'altro aspetto è questo, un elemento costitutivo tradizionale, in acciaio, cemento armato, legno, è un elemento che ha una forma propria, inerte e quindi messo a terra o messo in opera, la forma non cambia, ha quella forma. Ed è una forma che può essere definita progettualmente indipendentemente dallo stato di sollecitazione e dai carichi a cui l'opera verrà assoggettata. Perché ha una forma propria di struttura inerte, la fune non ce l'ha. La fune non ha una forma propria inerte, messa a terra, cioè priva di peso e priva di forma. E quindi questi due aspetti messi insieme portano questo tipo di strutture su un piano nuovo, assolutamente diverso rispetto alla scienza delle costituzioni tradizionali. In particolare una nuova, se volete, teoria delle strutture nella quale viene a mancare un supporto fondamentale di carattere concettuale teorico. Cioè la proporzionalità fra i carichi e le deformazioni e l'impossibilità di poter prevedere una forma in assenza di una analisi strutturale complessiva, oppure di un'analisi su modello. Non so se i presenti ingegneri, architetti ricordano il periodo, bisogna avere degli anni come i miei, diciamo, per ricordare il periodo. Aveva avuto quell'interesse precedente gli anni 70, quando per definire la forma di queste strutture si ricorreva all'acqua saponata, alle bolle di acqua saponata. Si ricorreva alle lamine di tulle, di elementi flessibili, tessuti flessibili, per riuscire a capire che forma avrebbe assunto la costruzione in opera sotto i carichi. Non c'era altro modo allora. Mancava tutta la teoria di queste strutture che si è sviluppata, la prossima, se posso vedere la prossima, no, non sono nell'ordine, eccola qua, indietro un attimo. Che si è sviluppata negli anni 70 a seguito di quest'opera straordinaria. Ingegneri, architetti, da Torino, da tutta Italia, da tutto il mondo, siamo partiti per andare a Monaco, 1972, riuscire a capire che cosa avevano combinato e come avevano potuto realizzare un'opera come questa, tutta di funi, una cosa meravigliosa, travolgente, assolutamente. Quindi la singolarità di queste costruzioni era assolutamente, ripeto, travolgente per noi ingegneri e architetti e voglio segnalare in particolare che questa struttura, come poi lo Stadio delle Alpi, era retta da cavalletti che si vedono nella parte sinistra e da un grande cavo di trazione sulla parte destra. Struttura diversa, assolutamente, dallo Stadio delle Alpi. Questa, per la prima volta, un gruppo di ingegneri di altissima qualificazione tedesca, fra cui Schleich, che fosse il più grande ingegnere esistente al mondo oggi. D'accordo? C'era Leonard, c'era Andra, c'era Bergmas e Schleich. Ecco, loro per la prima volta riuscirono a fare una teoria del comportamento di strutture, di tensostrutture complesse come queste, in campo non lineare e a controllare il comportamento di queste strutture, al di là di una sperimentazione, ripeto, che dava dei risultati molto scadenti, molto imprecisi. La prossima, queste sono fasi delle ricerche fatte al tempo, oggi assolutamente superate, per riuscire a controllare il comportamento di queste strutture. Erano ricerche sperimentali, faticosissime. Quindi, quello che si è fatto negli anni Ottanta a Torino è molto a ridosso, è molto vicino a questa fase, ripeto, della seconda metà degli anni Settanta, in cui si sono resi disponibili degli strumenti di analisi e di controllo del comportamento delle strutture. Dico questo per mettere in evidenza anche il coraggio che ha avuto la città di Torino, il coraggio che ha avuto il gruppo dei progettisti, la direzione lavori, tutti coloro che sono stati coinvolti in quest'impresa, la prossima. Cosa si faceva a quel tempo? Cioè alla vigilia dello Stato delle Alpi, qual era la situazione italiana delle costruzioni in tenso struttura in Italia? Appunto, era debole, erano delle piccole piscine, dei palazzetti dello sport in travi di funi come questa, piccole opere. La prossima, c'era ad esempio alcuni, questa è una chiesetta nel Padovano, piccole opere, non c'era, mancava l'occasione perché in effetti per arrivare all'affermazione di un'opera e di un sistema costitutivo occorre una grande occasione, la grande occasione fu appunto i mondiali del 90. La prossima, c'era un'unica opera importante, molto importante, era il più grande paraboloide iperbolico del mondo, era a Milano, era a San Siro, 140 metri di diametro, era stato progettato nel 72, d'accordo, con grande difficoltà, e quest'opera purtroppo, quasi alla vigilia di tutta l'operazione dei mondiali e dello stadio delle Alpi, è crollata. Un crollo che è avuto nell'inverno dell'85, il professor Castigli, il professor Levi ed io fumo incaricati di accertare le cause di questo crollo, dall'altra parte c'erano i consulenti del CONI, il professor Finzi, il professor Ballio, non ci siamo trovati d'accordo sulle cause del crollo e successivamente io fu incaricato, la prossima, del progetto di ricostruzione e non ci siamo trovati d'accordo neanche sul, diciamo, sull'equilibrio della struttura, cioè sui calcoli della struttura, per cui l'opera poi non si è mai realizzata, non è stata realizzata, ognuno è rimasto convinto delle proprie ragioni. Ecco, quindi c'era alla vigilia della costruzione dello stadio delle Alpi, c'era in Italia, allora, poca esperienza di costruzioni di questo tipo, c'era stato un disastro che non aveva trovato una soluzione in qualche modo, non era stato chiarito esattamente, quindi c'erano dei motivi di preoccupazione e anche di diffidenza in un certo senso. E dico questo ancora una volta per segnalare l'importanza che ha avuto lo stadio delle Alpi nel riaffermare, diciamo, sia la validità di un sistema costruttivo, sia la capacità anche di realizzazione, la prossima, la capacità di realizzazione, ripeto, di un'opera così estesa, diciamo, di un esemplare a così grande scala in un settore che era ricchissimo, che è ricchissimo di cultura scientifica e di innovazione tecnologica. Questo, ripeto, ad appuntamento fisso e in brevissimo tempo. Ecco, questo volevo segnalare sostanzialmente. Per quanto riguarda l'arbitrato, la prossima, ne ha già parlato ampiamente e in modo molto chiare e convincente il dottor Balbuto. Voglio solo ricordare qual era la posizione tecnica da parte dell'ingegneri Luciani e mia nei confronti dei consulenti viceversa dell'acquamarcia. noi sostenevamo che il progetto di riferimento, però è stato già richiamato dal dottor Balbuto, fosse il progetto legato, il progetto esecutivo legato alla convenzione. Il progetto a 90 giorni, cioè il progetto dell'ottobre 1987. Dall'altra parte, viceversa, SAPAM e il professor Castiglia sostenevano che no, che ci fosse una offerta dell'acquamarcia. Quest'offerta era stata accettata e approvata dalla città. Quest'offerta conteneva un progetto e quindi il riferimento delle opere compiute di tutte le varianti doveva essere valutato rispetto a quel progetto. La prossima. Ecco perché il quesito numero 2.1 dei 64 quesiti a cui abbiamo dovuto rispondere, il quesito base era questo e cioè rispetto il fatto di prendere a riferimento delle varianti, perché erano le varianti che rappresentavano il grosso delle domande, prendere a riferimento delle varianti il progetto, era la richiesta appunto della SAPAM, prendere a riferimento delle varianti il progetto approvato originariamente dalla città. Non era così. Il progetto approvato originariamente dalla città come aveva scritto lo stesso architetto Utrell nella relazione architettonica originaria, era un progetto che andava poco al di là di un progetto di riferimento, di massima ed era così effettivamente. Il vero progetto di riferimento non poteva che essere il progetto di convenzione. peraltro ha ricordato oggi il dottor Barbuto l'arbitrato partiva con riferimento alla convenzione dell'87. Ecco, questa è la nostra posizione. Aggiungo la prossima, questo è l'allegato tecnico al il fontespizio dell'allegato tecnico al progetto d'offerta alla decisione alla delibera della città. La prossima. Nella delibera della città giocava un ruolo importantissimo l'allegato tecnico. L'allegato tecnico era il metaprogetto dello stadio. La città non aveva non aveva chiesto un'offerta per realizzare un'opera. Aveva richiesto un'offerta per ottenere e per dar seguito a certe prestazioni che avevano richieste. Era un metaprogetto. Era detto molto chiaramente in questa in questa immagine uno stralcio che io ho tolto. Questa era quindi la nostra posizione. Cioè l'acquamarcia non poteva chiedere alla città di riconoscere delle varianti dei costi di varianti rispetto a un progetto che non era un progetto ripeto rispetto alla posizione della città che non si è espressa attraverso un progetto e delle opere da costruire. Si è espressa attraverso delle prestazioni da ottenere. Questa era molto importante. Quindi questa posizione della città fu molto utile molto chiara per la posizione che noi assumemmo. Tutto qua. Invito al tavolo il professor Franco Rossola. Bene, intanto grazie e mentre caricano le slide io inverto la presentazione perché gli interventi precedenti stimolano indubbiamente delle riflessioni. Allora la prima intanto ringrazio il professor nasce Vittorio perché effettivamente è stata un'opera in cui siamo andati al limite dell'osabile dell'incoscienza ingegneristica ma nello stesso tempo è stata estremamente stimolante e direi un'opera di alta tecnologia che va inserita nel contesto tecnologico di allora non dimentichiamo che allora si parlava non c'era il telefonino non c'era l'email disegnavi sui lucidi correggevi lucidi grattando con la lametta era tutto un contesto non avevi il plotter in casa farò vedere un'immagine scorriamola in cui poi è interessante in cui il tutto avveniva con un grandissimo lavoro di progettazione di confronto gomito a gomito all'interno del team di progettazione con Sergio Uttari i suoi collaboratori Elena Antonio con Tony Cordero qui va un grandissimo ricordo non sono più tra noi dove solo di progettazione e con l'amico e Majovieschi con cui abbiamo passato notate tra tutti assieme di sola progettazione di questo team sono state 120.000 ore di progettazione di pensate di tempi per approfondire tutta una serie di cose siamo andati anche in oltre alla progettazione e poi lo legheremo alla parte più costruttiva soprattutto l'architetto sulla programmazione dei lavori perché i tempi erano strettissimi su fare noi costruttivi perché l'idea che ha avuto Romagnoli di dividere lo stadio in n cantiere e imprese diverse ci doveva essere un progetto di regia che il lato est fosse uguale a ovest che il nord fosse uguale a sud se no aveva un qualche cosa che non lo metteva assieme o perlomeno se lo metteva assieme aveva una forma diversa questo è un primo primo punto che volevo segnalare secondo che lo stadio sull'abbattimento non è stato abbattuto per alti costi manutentivi o gestionali e perché erano passate già due generazioni diverse di stadi è stato abbattuto per obsolescenza funzionale tant'è poiché mi sono occupato della demolizione e poi della ricostruzione non c'era né una corrosione sulle strutture metalliche né una corrosione sulle funi i costi reali della manutenzione li espressi in sala dell'orologio proprio in questo palazzo sia all'assessore Corsico sia a Giraudo e a Bettega che erano presenti che li hanno ascoltati ed erano la metà di quelli che venivano pubblicizzati e li hanno ascoltati con malcelata noia quasi dessero fastidio i reali costi quindi su questo ognuno poi interpreta come credi ma l'obsolescenza funzionale non dimentichiamo che era nato come stadio polifunzionale per diverse attività poi divenne lo stadio la seconda generazione quello basato sulle riprese televisive sulla pubblicità perché si era capito che erano un grosso gettito poi ancora oltre sullo stadio il più vicino possibile al campo poi dopodiché nacque anche tutta la generazione di stadi che chiudendo molto lo stadio l'erba pativa parecchio nacque la prima esperienza con Gelsenkirchen quello dello Schalke 04 dello stadio che slitta fuori dall'interno stadio e prende il sole a sud con dei costi che poi si rilevavano pazzeschi perché era fatto questo visitando con tecnologie peraltro forse non tra le migliori perché non lo fai a scorrimento per attrito ma lo fai con l'attrito volvente che è minore di quello radente e quindi far scivolare un campo da 11.000 tonnellate all'esterno dopo 20 azionamenti erano sempre tutti da cambiare i pattini di scorrimento quindi questo però ci furono tre generazioni successive non dimentichiamo che proprio nel 1996 uscì il primo decreto pisano che pose delle regole di sicurezza completamente diverso ponendo tutta una serie di problemi ed è lo stesso problema che andava prima che ha l'attuale stadio in piazza d'armi perché tutto l'antistadio le misure di sicurezza porta a bloccare perché non ha lo spazio per realizzare l'antistadio andiamo andiamo avanti e fermiamoci un secondo in effetti ritornando sulla parte dell'arbitrato ma vedendolo come progettisti per noi è stata un po' un'amarezza devo dire perché guardate ho voluto riportare quello schemino naif in alto era il primo schizzo poi è stato tradotto in tavola grafica del progetto d'offerta rispetto sotto che quello che è stato realizzato è un altro mondo è un altro progetto è un'altra realizzazione sono contesti tecnologie tecnologie completamente diverse se devo dire solo da un punto di vista progettuale il comune ha avuto un oggetto straordinario di alta tecnologia a livello mondiale totalmente diverso da quello che era l'offerta e questo come progettisti aver ridotto tutto a metri quadri a costo metro quadro ci ha un po' amareggiati dopo lo sforzo che era stato profuso andiamo avanti ecco questa è una immagine del modello di calcolo come vedete e come ha già detto bene Vittorio senza una modellazione totale non riesci neanche a capire la forma che può avere proprio per i principi che tu hai detto e questo è stato un modello ed è una superficie di tensostruttura di tre ettari di oltre tre ettari la più grande al mondo a quell'epoca dove ha un rapporto e queste sono state elaborazioni fatte se qualcuno se lo ricorda con l'ME24 della Olivetti lanciavi i dati alla sera aspettavi 8-9 ore per avere il risultato dell'elaborazione ecco perché abbiamo passato le notti e 120.000 ore con un rapporto di efficienza straordinario il peso proprio di tutta la struttura connettori funi e parte era 22 kg a metro quadrato e ne portava ben 180 9 volte tanto tra rapporto peso proprio e peso portato quindi questo devo dire andiamo avanti con la strumentazione di allora questi sono altri schemi della modellazione che con l'amico maiovie schemi stato durissimo fa poi andiamo avanti ecco l'altra cosa che volevo accennare è questo Vincenzo Romagnoli come io lo definisco molte volte penso sia stato l'ultimo mecenate d'Italia perché perché ha avuto il coraggio avendo capito poi man mano che si evolveva lo strumento il progetto di e anche in disaccordo con il geometra Rolando anche lui il geometra Rolando in buon piemontese mi disse ma ingegnere all'epafo la femmina tensostruttura mi chiamato a farmi una tensostruttura quando cominciai ad accennare ne parlammo con il comandatore Romagnoli e poi al geometra Rolando presentammo proprio una tensostruttura quindi dopo che ce l'ha detto se non è matto a fare un'opera del genere però quello che è stato ed è sempre stato sottovalutato quelli gli studi le ricerche le sperimentazioni che sono stati pare al 2,5 il 3% dell'opera stiamo parlando di 4-5 miliardi che sono state fatte prove in galleria del vento al 6 Vettepè di Parigi al Western Ontario in Canada le prove sulla copertura in alluminio perché doveva essere autoportante su 5 metri in alluminio macroforato perché aveva anche una funzione acustica di ridurre nel caso di concerti quello che era non creare rumore o eco che disturbassero presso l'Università di Karlsruhe in Germania la tensostruttura con le sperimentazioni presso la Pfeiffer di Memmingen la copertura in alluminio Keffer e a breme e Ogowens Stromaier e Wagner a Costanza più tutte le università poi in Torino Milano Istituto della Saldatura Genova Università di Genova l'ISMES l'Università di Stoccarda e di Bocum per alcune componentistiche e l'SLV di Duisburg e Monaco aggiungo anche che questo quadro dà un'altra anche visione che è stata molto molto stimolante quello di avere il coraggio nella progettazione di non sentirsi i padri eterni ma di accettare il confronto dialettico con il costruttore quando il costruttore è di primo livello internazionale il confronto con la Pfeiffer e mi ha fatto molto piacere che tu hai citato prima chi erano i consulenti cioè la nostra controparte da parte di Pfeiffer erano il professor Sleick e Bergerman cioè esattamente i numeri uno al mondo di questo settore quando i due risultati il nostro e il loro sono diventati convergenti perché loro hanno fatto la riprova per fare il piano di tesatura che era onere loro contrattuale quando i due risultati sono arrivati a convergere c'è stata in questa chiamiamola così follia controllata se vogliamo dire perché? perché ripetute le cose da software diversi professionisti diversi modi di ragionare diversi se convergevano se convergevano c'era sufficiente confidenza che il risultato era corretto quindi questo proprio come anche stimolo per tutti che quando affronti un'opera del genere bisogna affrontarla con grande umiltà con grande dedizione accettando il confronto costruttivo ma come vedete in questo rivolgiti sempre ai numeri 1 al mondo in tutti i settori e la soluzione la trovi la trovi bella e la trovi funzionale al minor costo quindi volevo solo dire che è andato tant'è che non si sono trovate anomalie durante la demolizione ma si è visto che l'obsolescenza che ha causato l'inesorabile abbattimento anche se con molta tristezza perché ritengo adesso nessuno me ne voglia che il delle Alpi è migliore della Juventus Arena come contenuto tecnologico non dico come luco come funzionalità ma da un punto di vista di tecnologia pur con molti anni addietro prima era sicuramente meglio di questo certamente questo aveva un costo bloccato 85 milioni di euro in quanto la lungimiranza del dottor Blanc della Juventus dice ho stato in questo budget o io o faccio lo stadio o compro i giocatori se non posso comprare i giocatori non mi serve lo stadio quindi dovete trovare un ragionevole punto di equilibrio tra quello e devo dire e questo è l'ultimo punto che volevo sottolineare perché poi se avete pazienza faremo anche scorrere il filmato del sollevamento della tensostruttura che recupero della imprenditoria locale recupero dell'imprenditoria locale la piccola media che rispetto a tutta una serie di subappaltatori aveva una propria organizzazione aziendale una propria dirigenza aziendale una propria celerità nelle decisioni cioè la catena di comando era corta era imprenditoria che faceva un'opera importante e capì l'importanza per Torino e quindi non poteva fallire la sua missione proprio su Torino e quindi è stato ci sono stati dei momenti con più di 450 persone in cantiere persone e devo dire anche se non esistevano tutte le norme sulla sicurezza all'interno dello stadio non c'è stato un solo incidente quindi da un punto di vista anche della sicurezza si sono fatte tutte quelle attenzioni necessarie e lo stesso è un po' questo recupero di essere legati al territorio di credere in questa operazione che penso abbia dato un grandissimo contributo anche per dopo ma soprattutto che è servito anche come riferimento almeno per i team per me per i team di progettazione per le altre costruzioni che sono state fatte dopo per esempio lo stadio della Juventus è stato più facile di allora perché come dire tutta una serie di errori di cose che uno commette nel passato cerca di non ripetere quindi la storia per lo stesso tutta l'ipotesi che sono state fatte e poi recuperate anche per la costruzione della Torre San Paolo e quindi è stato per ripercorrere una sorta di know-how che ha attraversato la tecnologia l'altra amarezza come universitario è stato che quando ti vai a cimentare all'estero il livello di dotazione e questo fa male delle università estere in termini di attrezzature in termini di possibilità di sperimentazioni beh ci scavalcano decisamente tant'è che tutte le prove sulle funi a rottura sulle funi dell'84 sono stati fatti nei tunnel della West Alpine quelle più piccole presso i tunnel della Pfeiffer che usava funi della Thyssen ma c'è una differenza ricordo anche i pareri e questo lo cito poi passiamo al finale che mi ha colpito molto proprio quando abbiamo fatto tutti gli studi sulle lamiere autoportanti 5 metri con quei sovraccarichi in alluminio peraltro tutte sagommate trapezionali e macroforate andammo all'unità di Carruhe dove ebbero molti incontri con Rolf Bair che alla fine dopo che ha fatto bene abbiamo dato i disegni e fatto tutte le sperimentazioni abbiamo fatto diversi incontri intermedio l'ultimo incontro oltre a vedere una cassa di documenti per terra mi pose due paginette dove diceva e l'ha letta lui visti gli esiti delle sperimentazioni visto questo visto quest'altro il sottoscritto professor Rolf Bair certifico sotto la mia personale responsabilità che i parametri da adottare in progetto sono i seguenti questa la insegna lunga rispetto a quello che molte volte dai laboratori o dalle università italiane esce dove c'è tutta una serie di dati da interpretare ma ha responsabilità di chi l'interpreta e non di chi l'ha costruito se adesso avete pazienza farei scorrere il filmato volevamo tagliarlo di tre minuti per motivi tecnici si sfalsava l'audio rispetto al video per cui durerà tre minuti in più abbiate paziente all'inizio è un po' lento ma sì 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 ecco il cantiere per la costruzione del nuovo stadio della città di Torino a 14 mesi dall'inizio dei lavori ha recentemente concluso la fase più complessa e spettacolare della sua realizzazione il sollevamento in opera della tenso struttura di copertura avvenuto nei giorni 19, 20 e 21 di agosto 1989 la struttura era stata interamente premontata a terra nei quattro mesi precedenti quello che potrete vedere come diceva anche Neshe la tenso struttura a terra è priva di forma lo si vede benissimo è un filmato specie del sollevamento con ripreso ogni 15 secondi e poi rimontato con accelerazione e quindi vedete man mano tutte quelle che sono state le movimentazioni ma ecco quindi comunque se non c'è l'audio ve lo spiego io e quindi allora quindi adesso questo vedete prima avete visto la tenso struttura a terra che è stata sollevata in 50 ore quindi gli operatori erano in testa ai piloni con 56 piattaforme 56 centraline idrauliche che venivano comandate da centrocampo vedete anche la la parte perché i pennoni li vedete ad altezza diversa sono ad altezza diversa in funzione di quello che era lo sforzo che si introduceva all'interno della struttura vista la forma bilobata perché è fatto come due cerchi uno accostato all'altro con un tirante in mezzo perché introducendo il tirante riducevi lo sforzo da 5000 tonnellate di trazione nell'anello a 2000 quindi conseguentemente dato che il tiro detto proprio così a bastoni come si dice quasi proporzionale al raggio quindi conseguentemente ridurre con il tirante centrale che poi è servito per le passerelle di camminamento per appendere il cluster centrale dove c'è tutta l'acustica dello stadio consentiva anche di più che di mezzare quello che era lo sforzo di trazione nelle funi ecco questi sono i blocchi da ancoraggio in cui anche come nozione di cui se ne occupò il professor Jamiolkowski e è stata una grande fortuna la sua intuizione che ci chiese di fare i sondaggi fino a 90 metri di profondità quando c'era la ghiaia bene c'erano sotto i 50 metri uno strato lente di 20-25 metri di materiali soffici per cui i cedimenti stimati che io lo guardai sempre un po' in maniera interrogatoria dico ma sei sicuro i cedimenti sarebbero stati di 11 centimetri ovvero i blocchi d'ancoraggio si sarebbero appesi ai pennoni lui mi disse guarda il calcolo è da 16 tu fai conto da 11 a 9 e mezzo e si verificarono perché controllammo tutto con aste a 6 dimetriche vedete man mano adesso le operazioni adesso comincia il il tiro che come vedete in sequenza ovviamente tutto accelerato avevi paura no no c'è nel senso che insomma riprendendo un po' il motto dei bersaglieri bisogna avere fiducia in se stessi fino alla presunzione però dopo che hai fatto proprio quello che si era detto prima convergevano due verifiche in parallelo e completamente distinte quindi conseguentemente c'era una sufficiente confidenza vi posso contare anche quando uno dice non si sa che forma prende un certo punto ci fu un episodio con un certo preoccupazione perché dato non c'era a livello di allora di tecnologia neanche di possibilità c'erano 56 tecnici su ognuna delle piattaforme che azionavano altrettante 56 centraline con i comandi da centrocampo per via radio e a un certo punto c'era questa anomalia inspiegabile allora prendiamo un tecnico e gli chiediamo di andare a controllare quello che stava capitando si era addormentato l'operatore visto che è il mio quindi questo è sono anche le incertezze e peraltro con una sessantina di radio a frequenza tedesche ad un certo punto arrivarono anche di corsa da caselle perché erano in interferenza con le frequenze del sentiero di discesa quindi anche con certi quali preoccupazioni abbiamo potuto cambiare tutte le frequenze perché c'erano appunto ecco man mano quindi si controllava l'assetto che stava prendendo il celestino croza mitico e poi si davano tutti gli ordini ma il completamento del sollevamento e la prima tesatura non certo quella di affinamento avvennero in 50 ore tra il 19 e il 20 21 agosto e questa poi è la vista finale adesso vediamo se c'è le vele di curva queste che vedete come vele di curva si può anche qui con questa forma molto strana alla fine dopo che avevamo fatto i rettilini c'erano i pennoni av e c'era da chiudere quel buco che era dato dalla spaccatura nella curva e quindi fu un'invenzione architettonica strutturale discussa a lungo con Sergio con con Tony ma 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 via e di dire ed è l'ultima che abbiamo progettato come copriamo quel buco quella forma è stata per dare una continuità visiva allo stadio perché altrimenti avrebbe avuto una spaccatura e quindi che peraltro è stata anche questa una modellazione molto molto complicata perché erano oltre 2500 punti e quindi che dovevano essere 2500 punti 2500 riferimenti ognuno dei quali insomma ben sapete bisogna fare tutti i pre-setting della posizione perché perché tu fai tutto il marking e metti i morsetti sulle funi quant'è a riposo e la posizione finale che ti attende è dopo la tesatura e quindi hai tutta una situazione che è diversa tra un oggetto che quando lo tiri si allunga parecchio cambia di posizione cambia di geometria quindi vedete la complessità di queste vele di curva che specialmente queste come pure le travi di fune cambiano man mano forma posizione e devi con la simulazione fare tutta la posizione dei morsetti finali sapendo e presogendo come andrà a deformarsi io avrei concluso penso nei termini allora Matteoli e Ravaioli per tirare un po' le fila di questa mattinata io ho imparato un sacco di cose che non sapevo ero un amministratore ho fatto in maniera insieme ai miei collaboratori Gabriella Peretti in particolare che credo sia qui presente abbiamo fatto il progetto esigenziale allegato alla concessione a noi abbiamo descritto lo stadio che la città voleva in termini dialettici non avevamo un progetto non potevamo avere un progetto se non quello di Sergio Uther che però non era un esecutivo e non poteva servire per una proposta completa e abbiamo fatto forse il primo metaprogetto di stadio che è stato fatto dalla facoltà di architettura sottoscritto con l'aiuto della professoressa Gabriella Peretti che allora era una mia assistente ed è stato uno strumento utile ho appreso oggi perché è stato uno strumento in base al quale in sede di arbitrato si è in certo modo consolidata la posizione della città io mi sono anche meravigliato molto delle cose che ha raccontato Francesco Ossola la quantità di informazione tecnica e tecnologica e di progetto di ingegneria che è arrivata alla città di Torino alla scuola di architettura e agli studenti che sicuramente Francesco Ossola avrà istruito è un patrimonio è un patrimonio che si fa risalire direttamente all'iniziativa al fatto che questo rischio è stato assunto il progetto è stato fatto l'impresa ha rischiato Romagnoli ha speso 4 miliardi di sperimentazione per giustificare le scelte tecniche cioè le opere hanno un ciclo di vita che va ben oltre la struttura costruita che diventa insegnamento che diventa conoscenza che diventa capacità di intervenire ancora di presentarsi in sede internazionale sui mercati internazionali dell'ingegneria in modo consistente questa è un'opportunità che la città di Torino ha avuto ne ha perse alcune ha perso l'opportunità del parco alla continassa abbiamo perso 30 anni di professionalità nel campo dell'allenamento sportivo chissà che non ci sarebbe stato scusatemi se è a rischio i congiuntivi un Cristiano Ronaldo nei 10.000 passa atleti che si sarebbero allenati nel non campo della non continassa grazie alla pigrizia della mia giunta della mia giunta dimmi non sgridarmi no una considerazione quando ho detto un 2,5% su quest'opera di sperimentazione di know-how pensate solamente se tutte le grandi opere pubbliche destinassero l'1 o il 2% alla sperimentazione come cambierebbe e come si modificherebbe la competitività italiana sui mercati esteri in termini di know-how e in termini di possibilità di penetrare in questi mercati con dei ritorni non solo di immagine ma economici enormi se non si ha il coraggio di investire in sperimentazione in know-how si finisce poi che si chiude in inglese si chiama learning by doing chi fa non solo costruisce e realizza ma impara e chi impara può insegnare questo l'ho imparato oggi in gran parte perché io ero soltanto un amministratore subivo l'aggressione dei consigli della città di Torino sono stato indicato come maldestro e disinformato dal giornalista Franco Recanatesi sulla Repubblica in un articolo nel quale lui stesso denunciava se stesso perché parte quell'articolo ve lo faccio vedere ce l'ho sulle slide se vogliamo citando dei dati che non poteva avere avuto se non leggendo i verbali della commissione esaminatrice dopo aver citato questi dati si chiede come mai l'acquamarcia era più affidabile della Fiat di Recchi c'era scritto in quei verbali li aveva letti quei verbali se poteva citare quei numeri però non li ha scritti nel suo articolo e alla fine noi passiamo come maldestri e disinformati da questo giornalista che forse oggi potrebbe ripensare le cose che ha scritto in malo modo allora ripeto di nuovo la mia critica nei confronti della Stapa non venga strumentalizzata noi siamo per la libertà di stampa e andremo sulle barricate però la libertà è un percorso e la libertà non va soltanto garantita va anche meritata e questo che io vorrei che passasse come messaggio e l'esperienza dello stadio delle Alpi è un'esperienza del futuro di Torino abbiamo sbagliato il titolo di questo convegno doveva essere il futuro di Torino leggendo l'esperienza dello stadio e forse sarebbero venuti gli studenti ma li troveremo perché la stessa cosa che abbiamo fatto qua oggi la faremo al Politecnico di Torino e non ci sfuggiranno i giovinetti dovranno venire a sentire quello che i vecchietti un po' in qualche modo ha fallito molto ma su questo aspetto non abbiamo fallito abbiamo fatto quel che doveva essere fatto abbiamo avuto il coraggio di farlo dai adesso viene Aldo che dice io concluderò molto rapidamente devo dire che io da buon ingegnere aeronautico seguì invece la costruzione e ammirai moltissimo devo dire devo riconoscere fu una grande una grande opera però quello che voglio dire e concludo perché fu abbattuta quello mi pesa quello mi dà fastidio obsolescenza funzionale cioè non era è vero non era una questione di altro tipo obsolescenza funzionale ma cosa vuol dire? vuol dire incapacità di prevedere il futuro questo è stato il problema dello stadio quello stadio si poteva se si fosse fatto senza la pista di atletica per 50.000 persone oggi avremmo lo stadio fatto allora funzionante oggi l'abbiamo dovuto abbattere un'opera io l'ho vista ho visto salire belli fantastico onestamente fantastico visto da un ingegnere ovviamente però obsolescenza funzionale noi ci siamo battuti perché questa obsolescenza non ci fosse non siamo riusciti è una partita che abbiamo perso ne abbiamo vinte tante altre ma questa l'abbiamo persa non avevamo dietro di noi neanche il 30% del consiglio comunale c'era forse un problema bisogna dircelo con correttezza era difficile pensare a una società tra Juventus e Torino forse se ci fosse solo la Juventus l'avrebbe fatto la Juventus la Juventus e il Torino e d'altro canto era impossibile pensare che solo una squadra lo facesse e non l'altra e forse altra cosa non so se la Juventus di allora aveva quella visione del futuro che il futuro oggi ci dichiara noi credo non noi ormai noi vecchietti come dice Matteoli ma quelli che oggi sono giovani al Politecnico all'università soprattutto nelle amministrazioni non devono avere questo problema della obsolescenza funzionale soprattutto se è obsolescente già oggi bisogna che abbiano una visione del futuro e per questo li dobbiamo aiutare questo senso deve avere questi incontri guardate avanti a 30 anni a 20 anni su tutto lo stadio ne è un esempio opera fantastica ben fatta nessuno ha rubato tutti hanno costruito in tempi straordinari però è mancata quella visione del futuro per far sopravvivere oggi un'opera che è veramente notevole e meritoria grazie la pista per l'atletica è stato un errore enorme e io lo riconosco ho anche io delle responsabilità ma allora che cos'è che è stata la nostra scuola io sono andato a parlare con Carraro a Roma mi ha ricevuto con Nebbiolo al suo fianco che ha trattato sia me che Carraro come se avessimo rubato la barbellata perché non avevamo voluto fare diciamo non facciamo la pista Nebbiolo prometteva alla politica torinese 14.000 voti di tesserati dell'atletica un assessore un consigliere socialista o repubblicano di fronte alla possibilità di 14.000 voti le mutande si toglie non è una roba e quindi tutti quanti erano per la pista ma io veni sconfitto da una lettera scritta dal presidente della Juventus buonanima Chiusano e dal consigliere del Torino Calcio Nizzola che scrissero a stampa sera se togliete la concessione all'acquamarcia lo stadio lo facciamo noi con la pista alla continassa a quel punto il consiglio comunale vi dicevano Matteoli Picciu perché rumple male se lo fanno loro con la pista e tu invece capisci e così è finita cioè è stato un errore culturale politico non soltanto mio se io avessi dato le dimissioni o se avessi detto voti il consiglio forse la pista non si faceva ma a quel tempo avevamo anche per me era più importante fare e ottenere tutta la linea di opere accessorie che sono state fatte per 300 e passa miliardi cambiando il volto della città di Torino in quella zona e per darvi un'idea vi racconto un piccolo anedito interessante quando io sono andato a Roma con gli altri assessori per prendere i soldi della legge di Capria o non so Capria per i mondiali il vice sindaco Porcellana autorevolissimo ex sindaco di Torino molto importante disse vada Matteoli ma non chieda soldi se non per delibere già approvate in giunta e in consiglio io andai con Aldo Brizio ingegnere capo che aveva preparato una lista di cordoni di marciapiede tombini rifacimento di asfalto e lampadari e lampioni per mi pare 4 miliardi quando arriviamo al ministero c'erano tutti gli altri assessori che chiedevano porti turistici autostrade ponti sovrapassi sottopassi per 150 200 300 miliardi io dissi ad Aldo Brizio se andiamo lì gli chiamiamo 5 miliardi facciamo la figura dei babbei proprio ci siamo messi in un angolino abbiamo fatto una lista di 220 miliardi che ci hanno dato così i liquidi immediati che poi sono diventati 294 questa era ancora la cultura che alleggiava sul Torino quando sono tornato in giunta mi scusai perché ho disobbedito però i 220 miliardi piacevano questo è tanto c'erano tanti di aneddoti in questa storia che raccontano delle vicende ci sono domande domande da parte del pubblico qualcuno curiosità questioni come? anche anche sì ma qui ha un valore diverso prego solo uno spunto e questo soprattutto se faremo poi il bis presso le università il politecnico quando si parlava di obsolescenza funzionale il problema che neanche nelle scuole di ingegneria viene così posta l'attenzione sufficiente che ogni costruzione deve avere un suo periodo di vita utile e quello che è cessato quel periodo di vita utile cosa capita di questa struttura perché tu dimensioni il costo di intervento e dimensioni il programma che guardate è tutto il problema del posto olimpico di tutti quelli che sono stati gli impianti del 2006 non ti poni il problema di qual è il periodo di vita utile e la riconversione successiva e questo è proprio a partire da chi insegna nelle scuole di ingegneria spero che si senta sono Antonio Della Pier quindi faccio parte del team dei progettisti allora il tema di oggi è anche un po' imprenditoria locale anche gli architetti e gli ingegneri sono degli imprenditori perché rischiano le mutande tutti i giorni andando in autostrada tra Torino e Bologna dove si faceva la modellazione delle strutture quindi dobbiamo ringraziare la resistenza e la resilienza di Franco Ossola e di Matteoli che non si sono lasciati spaventare cioè quando l'opera è in corso la cosa più importante è mandarla avanti non cominciare a dire adesso vengono i dubbi cioè noi viviamo in questa cultura del dubbio che è assolutamente nociva non faccio assolutamente riferimenti né giuridici ma guardando per esempio il grattacielo di Fuxas poveretto adesso si ritrova una struttura in cemento armato che lui non aveva progettato quindi diventa poi tutto difficile quando si va a mettere mano cioè esiste una paternità del progetto Sergio Utter viene ricordato perché lui Franco e Tony Cordero erano stati contattati da leggevamo sulla prima diapositiva Prospero Orsini che è un imprenditore di Torino che ha detto qui sento che le cose non si muovono presentiamo noi un progetto per lo stadio perché sembrava che la ristrutturazione del comunale fosse l'unica soluzione e quel progetto lì fatto per la piazza d'armi perché allora nessuno immaginava di cambiare localizzazione è stato il germe in quel momento lì è stata messa una firma cerchiamo di aiutarli i progettisti che mettono la firma come dico si mettono l'anima il cuore lui raccontava il montaggio cos'era il 16 agosto Ossola non andava mica in vacanza non andava in barca perché quando c'erano i momenti decisivi sia del progetto che del cantiere bisognava essere presenti e continuare a lavorare su queste cose questo è un po' lo spunto ecco l'imprenditoria c'è bisogna cercare di favorirla a tutti i livelli il piccolo l'artigiano l'artista e il costruttore Orsini era un privato fa bene il suo mestiere anche oggi abbiamo bisogno di questi apporti privati grazie qualcun altro posso fare io una domanda al professor Matteoli tu avevi molta delega durante il tuo assessorato tra cui anche la delega ai trasporti se non sbaglio turismo allora tu hai dovuto affrontare anche un fronte del no piuttosto ampio e composito ai tempi abbiamo visto anche dei titoli dei quotidiani che hai raccolto ecco adesso senza nessuna polemica ma vogliamo parlare un attimo della TAV che cosa ne pensi è un nido di vespe questo qua però io il rapporto costi benefici su un'opera che deve durare 80 anni o 100 anni lo vedo un po' come un signore che con un cannocchiale costosissimo seduto su un luogo di profondi cambiamenti guarda nella nebbia mentre sotto i suoi piedi cambia la realtà le distanze tra 600 e 900 chilometri in Cina Giappone Europa sono oramai consolidate come competitive per l'alta velocità su ferro la visione del futuro è di una macro regione Lombardia Piemonte Savoia Delfinato che sarà una delle più forti regioni economiche dell'Europa sud ovest con metalmeccanica tessile turismo you name it tutto quanto tecnologia e che sarà veramente un luogo potente dal punto di vista dell'imprenditoria dell'impresa e della finanza il buco di 56 chilometri è il buco del lago che cucirà questa macro regione la metterà insieme e giustificherà un sacco di cose che oggi non sono neanche visibili e io mi permetto di rubare l'idea a un mio ex allievo che è stato uno dei più brillanti allievi della mia carriera accademica Bruno Caudana il quale dice io sono contro non sono convinto il ferro però ha avuto un'idea probabilmente il buco da 56 chilometri servirà come un traghetto con delle navette che andranno in su in giù al ritmo di 5 minuti l'una portando traffico di gomma da una parte all'altra delle Alpi e io credo che sarà forse quella la forma conclusiva del traforo da 56 chilometri ma nel prima di arrivare ad allora ci sarà un ridisegno del dispatching un ridisegno della confezione un ridisegno del conferimento un ridisegno di tutto il ciclo della mobilità commerciale e dei passeggeri sulla macroregione che giustificherà questa opera senza ombra di dubbio l'analisi di costi benefici è un esercizio secondo me assurdo Ponti avrà poi dei problemi perché le sue ipotesi sul 2090 le voglio vedere due secondi perché ieri c'è stato un voto alla alla Bruxelles perché i grillini 5 stelle hanno presentato una mozione per togliere il finanziamento alla Torino-Lione da parte dell'Europa era un sistema più semplice per bloccare tutto hanno perso 124 a 485 Lega compresa che ha votato no ma il problema il problema vero è che contemporaneamente Tony Negli ha sbloccato il terzo valico dicendo che però occorrono delle modifiche bisogna che i binari arrivino fino al porto e che dall'altra parte arrivino fino al centro intermodale di Alessandria come se il terzo valico non servisse a questo io mi auguro che sulla TAV diranno sì però lo sblocchiamo ma bisogna che poi i binari arrivino fino a Torino e dall'altra parte fino a Lione ecco se sarà questa la conclusione noi saremo felici grazie Bruno sei stato tirato in causa vuoi replicare in qualche modo vieni è una mente pericolosa Bruno come sopra il nome si chiama Wittgenstein questo me l'ha dato lui però spiegaci il concetto della navetta no io non sono convinto degli investimenti sul treno perché per quel che capisco il treno è obsoleto concettualmente cioè tu devi facciamo allora il treno è un mezzo di trasporto punto punto abbiamo un altro mezzo di trasporto punto punto che sono gli aerei stendere un binario vuol dire fare opere di una certa consistenza fare un punto punto nuovo si tratta di mettere due numeri su un computer e calcolare una rotta allora questa considerazione secondo me rende rende il concetto di treno un po' problematico ecco questa è la mia posso solo fare una considerazione allora per questo allora in Europa in Asia in tutta Europa in Asia in Marocco si stanno investendo più o meno 3 mila miliardi di dollari in collegamenti ferroviari sono passati in Cina da 40 mila chilometri in pochi anni vogliono arrivare a 80 si collegano a Mosca Twisburg è già una realtà quindi sta investendo tutta l'Europa 3 mila miliardi noi stiamo litigando per due è possibile che noi siamo gli unici furbi e gli altri sono tutti stupidi e noi usciamo da questo meccanismo è un po' come il tunnel del Freyus mi creda non nasce per le merci non nasce per i cinesi non stanno investendo per i passeggeri nasce per le merci 320 metri chilometri che hanno fatto tra Casablanca e Marocco e poi da Genova come va l'ultimo miglio come intervento l'ultimo miglio che sono le ultime 200-300 miglio del fronte la fama viene fatto non c'è possibilità allora dicevo il problema di fondo è il problema dell'ultimo miglio che c'è anche nelle telecomunicazioni qui sono le ultime due 300 miglia allora le ultime due 300 miglia non c'è possibilità di risolvere il trasporto per quelle ultime due 300 miglia fuor che con la gomma perché le strade raggiungono ogni casa e quindi non c'è cioè altrimenti bisogna pensare uno scambio intermodale in più e allora questo porta posso finire il ragionamento allora uno scambio intermodale in più porta un allungamento dei tempi del trasporto che rendono che tendono a rendere non conveniente quello che è il vantaggio del trasporto su treno cioè il minor costo per grandi masse io ho delle perplessità ecco onestamente Bruno di qui al 2000 al 2080 verranno ridisegnati tutti gli elementi della mobilità su gomma e su ferro e in particolare si farà un'operazione di integrazione gomma ferro che noi non riusciamo neanche a immaginare saranno cambiati gli imballaggi saranno cambiati i conferimenti gli aspetti ma comunque è ovvio che la gomma e il ferro dovranno integrarsi in particolare bisogna liberare per esempio noi la Val di Susa da un inquinamento spaventoso dovuto ai tir allora va bene il tunnel sotto la Val di Susa però tu non riesci a eliminare il problema di caricare il treno scaricare il treno e distribuirlo su mezzi più piccoli che lo portano alla destinazione finale questa roba qui secondo per quel che è proprio la integrazione intermodale facciamo parlare un trasportivo ma io vorrei esprimere la mia come trasportista ex-trasportista e valutazioni che direi vanno al di là Craveri che vanno al di là di quelle che l'orizzonte dei prossimi 5 anni 10 anni eccetera ma perlomeno nell'ordine dei 30 anni se vogliamo essere non dei visionari ma di fare dei ragionamenti per investimenti che comportano tempi lunghi e somme molto ingenti l'orizzonte sul quale dovresti proiettare non concordo assolutamente con la sua preoccupazione perché da quello che si sta vedendo e da quello che sono gli sviluppi il vero futuro della mobilità al di là degli aerei per le lunghe distanze che per le medie distanze invece sono destinati a scomparire è proprio la ferrovia la ferrovia che deve essere concepita come alta velocità che deve essere si sta evolvendo come tipo di trazione trazione assolutamente ecologica non inquinante con nuove sperimentazioni con sostanzialmente magnetico e quant'altro verrà fuori per cui quello è il vero futuro tra vent'anni e trent'anni quello che invece abbiamo molti dubbi è il futuro dell'automobile perché e questo lo dico come esperto in parcheggi che a Torino ne abbiamo fatti non pochi parcheggi in struttura eccetera quello che stiamo ragionando adesso come IPARC quindi come associazione dei progettisti costruttori e gestori di parcheggi in struttura che vengono realizzati normalmente con concessioni che valgono per 90 anni il problema che ci stiamo ponendo oggi facciamo noi un parcheggio tra trent'anni a che cosa servirà non più per le macchine quindi stiamo già ragionando di fare dei parcheggi che non siano dimensionati esclusivamente per contenere degli stalli macchine di un certo tipo altezze di un certo tipo ma per prevedere già un possibile riutilizzo diverso perché tra vent'anni e credo non diamo molto più in là il discorso della macchina come proprietà individuale e come sviluppo come lo stiamo vivendo addosso probabilmente sarà superato perché con l'introduzione delle macchine a guida automatica il concetto di proprietà della macchina sarà superato perché le macchine ci saranno lo stesso saranno macchine ad uso pubblico che verranno utilizzate prendendole nei vari punti della città o dentro o fuori eccetera per spostarci per quello che ci serve rilasciandolo per un altro utilizzatore perché queste sono le vere prospettive che noi abbiamo e questo dovrebbero essere gli orizzonti che ci poniamo quando pensiamo di progettare delle infrastrutture di trasporto che servano per i prossimi 50 anni in questo senso l'unica cosa che rimane in piedi perché non c'è un'alternativa è proprio il trasporto di tipo ferroviario magari non concepito come oggi con dei binari con linea aerea eccetera ma l'evitazione magnetica o quant'altro eccetera però saranno assolutamente necessarie vorrei non dire l'ultima parola ma dire una cosa guarda che basta andare a Düsseldorf e non è necessario tra 50 anni mia figlia che vive a Düsseldorf da 14 anni no che è una famiglia bene insomma loro non hanno due macchine ne hanno una sola a lei non serve la macchina perché lei prende una macchina dove la trova e mi dice tra un po' mi arriverà la chiamo e mi arriva quindi loro vivono già non 50 anni 5 anni 10 anni questo è il futuro in merito poi quando parliamo dell'ultimo miglio io condivido ma non 360 chilometri lei mi sta parlando di 200 miglia sono 360 chilometri ma guarda che oggi meccanismi attuali se lei va a vedere un porto e vede con quale rapidità a Rotterdam io lavoravo su Rotterdam a Rotterdam scaricano ridistribuiscono una nave come nei centri intermodali tedeschi con quale rapidità ma in un'ora scaricano e ricaricano un altro treno che riparte va in un punto ma che è vicino che è vicino alla città non 200 miglia 25 miglia questa è la differenza questa è la differenza che prova io delle idee di Bruno Caudana accetto soltanto quella del tunnel inteso come luogo di roll on roll off ma da qui ad allora ci sarà la necessità di un collegamento veloce e di un'integrazione gomma a ferro che adesso non possiamo neanche immaginare io penso che abbiamo passato una bella mattinata io ho imparato un sacco di cose spero che le abbiate imparate anche voi e raccontatelo perché non verrà stampato non verrà stampato da nessun giornale verrà stampato dai nostri atti noi faremo gli atti e li pubblicheremo grazie a tutti